Pronto? Mi sentite? Ma adesso va bene, dai. Ma poi com'è che sei sminchiato l'audio? No, ma che ne so, boh. Che arriviamo al carcere, quindi. Siamo nel carcere. La grafichiera comunque non è male, per essere il gioco quando è uscito, nel 2015. No, no, ma voglia, no, no. Non è un horror, regà, madonna, basta chiedere se è un horror, cazzo. Eh, anche a me, anche a me, su TikTok. Ehi, cos'è sto gioco, gioco un gioco horror? Cazzo vuoi? La grafica c'è, la grafica c'è. Mare fuori, nuova stazione. C'è, bislu, buona vera. È del 2018 sto gioco, ma... Eh, sì. Eh, qua c'era da fare la telecamera condivisa, sai? Che forza, non siete riusciti a vedere? Eh, sì, sono mezzo riuscito, ma è un po' un casino, è da prendere un attimo, da capire, vedere magari qualche video su YouTube. Infatti mi sa che dopo, poi, domani, vedo un po' così, il secondo episodio lo facciamo con la cam. Sì. Senti, io in caso la prendo da te la cam. Eh... Oh, mi scarico la tua live per l'editing. Oddio! Do stai tu? Oddio! Eh, no, sono... Ah, ma tu sei già dentro il carcere, sto arrivando dopo. Ah, sì, 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 te vedo. Ecco te. Il pompo del nonno. Perché stai hit? Aspetta, scusa. Sai che forse, aspetta che, aspetta che metto, metto la cam un pochino più piccolina, perché sennò loro vedono a metà il, ma sai che forse conviene che la metto in mezzo, la telecamera? Mi sai che la metto in mezzo a sto punto? Eh... Mi sai che conviene, sai? Mi sai che conviene, aspetta. Si, la metto al centro. Perché sennò poi da te non vedo letteralmente nulla. Ok, la metto qua. Boom. La metto centrata. Ma, dici? Eh, secondo me sì, secondo me è meglio... è meglio centrale. Io vedo però, eh. No, ho sbagliato. No, no, io intendo... no, no, intendo... intendo in stream. C'è la cam in stream, la mia cam in stream, la metto centrale. Oh, vabbè, ok. Ok, lo si può mettere più basso. Ma io devo... Oh, non mi fa passare sto stronzo. Vabbè, senti, il stand go lo levo, sì. Vale, il stand go lo levo. Li prendi. Ok, ci siamo. Muovetevi, non abbiamo tutto il giorno. Così è meglio, vero? Sì, è 1000X così. Ma il volume del gioco com'è, raga? Io lo sento altissimo io del gioco. La visuale... Ma male, raga, cioè... Move your ass. È stranissimo, eh, lo so, eh, lo so. Muovetevi, toglia del tutto. Ah, ma tu mi stiamo... Mi vedi? Ma dove sei tu? Ma qua sopra. Ma qua sopra. Ah 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 ah. Ma tu non? Cosa, frate? Stai a me fa due, eh? Mi chiamare, la grafica è bellissima. Sembra mafia, è vero. Cioè, pensavo pure io. È alto il gioco, vè? Aspetta un attimo, eh. Opzioni. Audio. Mi sta già intrippando sto gioco. Io posso parlare con la gente. Hey, sei ok? Che vuoi? Oddio, ma... Ma mi sta imbruttendo subito. Si forte. Sì forte. Tu pensi che sono fuoco? Tu pensi che sono un p***o, eh? Troppo? Vabbè, senti, vattene a fare in culo, sì. Ma che vuole questo? Mi f***o davvero bene. Hai capito? Sì, sicuramente lo so. Buona fortuna. Sto coglione mi ha imbruttito, frate. Sì? Che ti ho detto? Eh, mi ha imbruttito. Mi dice che... Boh, a questo giro, a questo punto, non parlo con nessuno. Di un mio amico, questo posto è uno schifo, un vero schifo. Non posso sopravvivere qui. Non dovrei stare qui. Cosa sai di questo posto? Andrà tutto bene. Cosa sai di questo posto? Andrà tutto bene. Sì, ma perché io sono arrivato carcerato e già... Devo essere come psicologo, scusami. Dai, vai via. Devi vada mentore. No, io abbasso un altro porico. Ragazzi, come un po' è il punto. Tocca a te, entra. Ti guarda, davvero. Devo venire incontro. Eh, mi sa di sì. Ma non mi fa muove, però. Ah, no, aspetta, sì, forse sì. Può camminare? Sì, sì, sì. Stava bastando un attimo il volume. Ma che figo. Oh, questi stanno attivando una volta. te. Oh, oh, oh. Oddio, e calamba. Eh, stava giustatino il volume, raga, scusate. Mamma, mi muovo. Come here now. Grazie, frizzo. Ma... E' già cosa si chiamava? A wake out. E' incredibile. Ok, così come imbruttisce, ovviamente. Ma mi ha spinto il suo stronzo. Le nostre spezzavano. Privilegi. Dobbiamo incontrarci. Poi. Io andiamo a incontrarci. Tutto questo è un privilegio. Spogliati. Ma mori entro, ma sai che se beccamo qua. C'è qualcosa che mi sto spogliando io. Io sono a destra e lui è a sinistra. Ma fammi vedere la visione. Io sono a questo qua a destra, che sta dentro al carro. Io sono già carcerata. Ma guardi, la prima volta. Noi ci conosciamo in cella. Oh, ma che te stanno a faccogliare? Oh, col culo di fuori. Oh, ma che c'è suonato sto coso? Oh. Oh. Oh, yeah. Madonna, mi stanno maltrattando. Non posso girarmi, sì. È un grave errore se mi giro, se è il giro abituale, mi sa. Mi sa che è un grave errore. Perd'amore. No. No. È girato. Oh, mi sono a gatti. Io sono nudo e tu combatti. Io sono nudo e tu combatti. Ma che cazzo è il Brasile, questo? Volevo te. Ma che banda, ragazzi, un gioco che banda. Volevo solo te. Mi so distratta quando si è visto il pisellone, non ci credo. Ma è quello di Kingsman, questo. Invecchiato, però. Ma stai qua sopra, guarda. Alza lo sguardo. Questo è Williams e questa è la mia prigione. Ci sono domande? No, questo lo ammazzano. Guardate, quello di Kingsman è uguale. Eccoci qua. Oh, guarda che addominaletti, però, sì. Pazzo, davvero, stavano tutti pompati, ma che dà? Guarda che addominaletti. Guarda su dopo, eh. Ah, no. Dicevete, tu, visuale, perché sto a vedere da sopra? Ma grazie, ma che sto vedendo, scusate, ma non è possibile. Ma poi tu, tra l'altro, sempre a me. Sempre a me, così strane. È incredibile. Ci sono col culo di fuori. Maltrattato. È incredibile. E' assurdo. Ma dove cazzo... Ah, da qua. Ok, sono in cella. Ma siamo accanto... Non l'hai visto? Uno resta a fare yoga, mi faceva a parlanza, perché? Ok, mi sto vestendo finalmente. No, no, c'è chill. Ma io ho il crampo, crampo. Let's go. Inside. Oh, ma stanno a far macella. Stanno a mannacigione. Ma cosa c'è with you? Close up cell 48. It took you long enough. Il gioco si chiama A Way Out. Siamo vicini di cella, ma che è... Siamo vicini di cella? Davvero? Ah, sì, perché tu sei salita lì. La scritta codomo per strada? Ora siamo vicini. Leo. Cosa? Alcuno vuole parlare con te. C'è qualcuno che vuole parlarti? Oh, non so, ma... Eh, mi sa che sono io, sai? Eh, mi sa che sì. Stai seduto laggiù. Eh, sì, sono io. Ah, scusa. Ma sai che mi sa molto grafica la GTA V, però, sai? Un po'. È molto da GTA V, non lo so, mi fa questa impressione. Dove sei? Mando cazzo sto io. Mando cazzo stai te. Devi scendere, mi sto perdendo. Sì, sì, sì. Vai a fare allenamento. Come allenamento? Posso fare... Oh, che c'è? Mi stanno ammenando, mi metti la mano. Senti, dapperti arrivo. Oh, c'è la rissa, c'è la rissa. Arrivi, arrivi, arrivi. C'è il brasiliano, arrivi a cazzotti. Arrivi, arrivi, arrivo. Ma che vuole questo? Fugnano al Brasile. Ah, sai che forse non posso fare nulla? Perfetto. Sono stata bannata da TikTok, grande, ciao. Ma che senso? Ti giuro. Vero? Sì. Ma... Contenuti sezialmente espliciti. Ma come? Ti giuro. Ferrari bristinato martedì alle 10. Sì, due ore. Dieci minuti mi hanno bannato. Dieci minuti? Sì. Oddio! 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 Ma ne pegavo proprio un cazzo. Oh, ma stai a me ne a te? Oh, daje! Oh, io, io, cazzo, io! Occhio, occhio! Oh, daje del Brasile. Che cazzo le tasto è? È il mattolo. È la X, ok. Oh. È giocattissimo. Daje, daje! Mena di tutti! Troppo! Gli amici del Brasile! Madonna che risone, oh! Sono potenzissimo, comunque. Oh, guarda il Brasile! Mamma mia, ragazzi! Occhio! Mamma mia, Brasilia, ma dov'hai? Oh, ma che è? Oh! 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 Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda io mi guardo a chi le spalle dice il nostro amico lui non viene quasi alle valle invece a diritto come scusa mi ha aiutato pezzo di merda ma sono fratelli una volta c'è non eravamo fratelli no non penso siamo siamo due sconosciuti a quanto pare ci conosciamo in cella davvero non erano fratelli rega no non siamo fratelli dice dicono in chat da me davvero sì non fratelli ma veri bro hai ragione tutti incazzati comunque per carità di cristo capisco che sei in carcere ma stai tranquillo special non sono fratelli io convinta che era fratelli di vade diverse esatto il gioco è a way out raffa dobbiamo dobbiamo uscire da sto carcere ma è fatta molto molto generale dobbiamo uscire da sto carcere però capisci mi ho fatemi passato a non mangiare sto mangiando e il sommato che no ma donna ma toccari fa un'altra rissa qua comunque non capisco ma che posso mangiare aiutare da ascoltare mangiare che preziono con le world leva leva ratto io fa tempo mi sto c'è mi sto godendo la cena e io ancora non arriva la mensa qua c'è la lama si cazzo arrivo ma rotto attenzione attenzione ma che è tutta la rissa come ha fatto a non morire sul colpo dopo questa questa è stata incredibile si vabbè si vabbè con le lame oh intercettano si vabbè ciao no devo indaginiare mangiala puttana guarda mua chi è giurочка boom dai lo dai lo quando va quello boom scchede sta panella Mamma mia ragazzi, sto a fermare male queste padelle! Occhio! Eh, mo che cazzo fanno? Nooo! 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 Terribile qua, eh! Ma comunque nessuno interviene! Papà! E' una cosa violentissima! Ma addirittura con le guardie! Vabbè sta fomentatissimo lui! Nooo! Mamma mia, ammazzatelo di botte! Sì, vabbè sì! Ammazzatelo di botte! No, vabbè, da una pugnalata la guardia così! Dio mio! Ma così è spera di morte, probabilmente! Sì, eh! Ma è follia! Da bravo brasiliano sta pippato a secco! Oh, attenzione! Una fermiera! Attenzione! Oh, magari dove la mette Wamanu? Oh, ci sta già provando! Vabbè, ma manca il tempo di capire il gioco e ci sta... Minchia che è, una spada! Oh, ragazzi! 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 Vincent! Vincent, grazie! Non c'è problema! Non c'è problema! Oddio, non penso proprio! Ma secondo me l'hanno fatto nero nero, eh! Non c'è problema, ragazzi! È semplice! Ho solo bisogno di guardare il mio occhio mentre ho capito! È tutto! Ah, tu vuoi già evadere così proprio di pezza senza neanche parlarne? Niente, non mi... Guarda, non mi tocca, guarda! Mi tocca una più a cacciavide, guarda! C'è problema! Poi non ci sono neanche conosciuti e già siamo letteralmente i migliori amici? Non c'è problema! E come funziona? Non so! Allora, allora! Allora, uno protegge e uno pensa! Uno dei migliori giochi, secondo me, eh! Addirittura... Beh, no, bello, dai, questo da fare in cooperativa è veramente carino! Sì! Che cazzo devo fare? Devo tipo... Devo tipo... Che devo fare? Devo... Eh, niente... G! Alzati! Ok, ti distrargo l'infermiera! Devi distrarre l'infermiera? Cazzo, e quindi io mo... Appena arriva mi alzo? Eh, mi sta appena... Sì, appena arriva devi sgattagliare fuori! Minchia! Mi alzo un po' cazzo! Che posso fare per lei? Eh, posso... Quando posso andarmene? Eh, perché se se le dico dell'acqua probabilmente si gira, lo dice! Cazzo, qua c'è la guardia! Dimmi scusi, è che per noi ho qui, capisci? Ma come lo distrago questo io? Non dipende da me, ma sono sicuro che presto potrà uscire! Allora... Ok... Si sta girando, è finita! Cazzo! Aspetta, devi chillare forse ancora! Aspettate, le parlo ancora... Ci si dite dove c'è me! Ahio, frate! Non posso fare nulla io! Ok, aspetta qua, aspetta qua! Dio mio, come fanno a vederti impossibile! Come fanno a vederti impossibile! Come fanno a vederti impossibile! No, da... Vincent deve fare qualcosa per... No, 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 no! Devi fare qualcosa per... Ma basta, basta! Ma è addirittura! Vai, muoviti! Vai, 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 vai! Va, 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 va! Come fanno a sentirti quello come fanno? Eh... Eh, merda! Se ne stanno... Ma che è l'inviato delle iene? Come si chiama? Eh... No, il postino! Il postino che ci passa per te! No, no, no! È l'inviato delle iene! L'inviato delle iene è quello con... Oh, merda! Aspetta! Oh, male! Hai capito chi? Come si chiama? No! Mi sto cagando addosso! Come stai cagando addosso? Perché? Perché c'ho paura che mi prende... Ma un bottone di te! In che senso? Ma non è un horror! Io c'ho l'ansia di tu... Ma si muove, suonasone! Ti prego! Comunque è un branco degli incoglioniti, se posso, eh! Ciao, Sofia e Diego! Staffelli, dicono! Ma... No, ma che Staffelli? Quello delle iene! Com'è che si chiama? Ah, sì! Quella barbetta! Quella barbetta! Quella barbetta! Quella barbetta! Madonna! Non mi ricordo cosa si chiama! Perluzzi! Come che si chiama? No! No! Perluzzi! Perluzzi! Le iene Le iene Non sfiscia la notizia ragazzi Le iene Google dice pelazza Palazza? Pelazza 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 Enrico Pelazza Come si chiamava? Palazza Pelazza Pelazza È Pelazza Fatelo Adesso lo cerco su Google Ormai ho la Ho la curiosità Ti lo insegno Tu sì domenico lui Eccolo Luigi Luigi Pelazza Fratele identico Guarda Era identico È lui Luigi Pelazza Ma ho scelto su YouTube? Non lo so Probabile Siete il pezzo già vi hai fatto prima Ma ora lasciami stare Ma scusami Ma su un pezzo di merda Sono sicuro che hai buone reason Per uscire da qui Ma devo andare fuori da qui Hai capito? Muo Io non c'è insieme Ma che cosa? Non ho bisogno di te Ma sto a fare preziosa Sto a fare preziosa Mi hanno bannato le amiche? Così a caso Ma su TikTok Sì? Sì 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 Ma è tanto regolare C'è una volta sì E la volta Sì Ma c'è stato Azz Oh Mi sei attortato Ti ho tiltato Oh Guarda Ti ho tiltato Vabbè Sì Sì pure per me Le chiappano Ma no Maybe not But Harvey Kill someone very close to me Aspetta io tra l'altro devo fare una cosa Aspetta Devo assolutamente abbassare il volume del gioco Perché io ti sento Io l'ho abbassato all'inizio Faccio così Ok Ok Fai applica Sì No Troppo basso Troppo basso Decidono di collaborare per scappare Morale dalla favola Riprendi E avevo l'altro Esatto Che ho un video Ci mi hanno bannato Ok Così sento un pochino più te Sì Io pure l'ho dovuta abbassare L'abbassata all'inizio del gioco Però perché veramente Ma io non capisco Perché tutti parlano adesso di Blue Stars E' riandato in moda Eh Già che arrivano Caso Così è random Ce l'ho scaricato pure io Per carità di nuovo Però non sto capendo Ciao Sara Buonasera Beh di cosa Veri tranquilla Basta Davido Basta E' visto E' visto E' visto Mi sa che Iniziamo adesso Adesso Cominciamo Perché Ah però bisogna Andar prendere cacciavite Prima Non è il cacciavite Mi sa E' il cacciavite Ah no Era tipo Era tipo Il coso Per Come cazzo Chiama Io ho capito Una palettina Mi ha speciale paletta Quella per Facente Quella delle unghie Tipo L'incipio Tipo quella Ah questo è dopo E' il futuro Mi sa che ci sono questi flashback bro in avanti Sai che forse il presente Stiamo usciti insieme Ok quindi per uscire usciamo Quindi non moriamo Sì sì mi sa che è il presente questo Sì sono tutti i flashback bro che giochiamo Ah mi grazie mille Lui mi sembra italiano comunque Stanno parlando del passato E appunto quindi parlando del passato Quindi automaticamente il presente Sì Uno dei migliori game mai creati La madonna Eh la lima Ecco ecco sì E' una lima Ah sì sì Ciao regà stiamo giocando A way out Un gioco in cooperativa Molto carino Che succede? Può salire su quel tetto Ah già perché dobbiamo riprenderlo Vabbè la lima cosa può servire Per Ledigare qualcosa Vabbè ma secondo me lo Lo utilizzerà tipo per Per aprire porte Che ne so Il passato non è presente Sì ma se parlano del passato Automaticamente è il presente quello Beh gru dei minions Ah pure camminiamo insieme Eh sì Olè Corruzione Via Il presente non esiste Il presente è passato Vero In teoria sì In realtà il tempo non esiste Se ci pensi Come un'invenzione dell'uomo Ok ralli Eccoli là Sta là Dobbiamo fare le faccende Ok Sì dobbiamo fare le faccende Se no ci strillano O dai Dei scopettone Bastone Non avrei mai pensato Di dover Oddio posso romperlo Aspetta Ah beh Sì perché mi sa che Mi sa che tocca a te Sto giro Ma che devo Ah mi sembra io devo spaccare in testa La madonna Mi sta adorato Non state l'imparato Certo Rompersi una scopa così Dal nulla Mi sembra un po' strano Però vabbè E questo Lui? Io sto Un giradischi Una via uscita da qui Un giradischi Come un giradischi E poi sembri che Gira dischi Ma Ma Da scelta dire una cosa Vabbè ma non Lo sembra puli Comunque Vabbè si Vaffanculo Allora aspetta Cos'è che devo fare Prendi lo scalpello Non mi sa che devo cambiare Aspetta Devi usare questo No Devo farmi lo cambiare Dal coso Qua mi sa Non mi sa che ho scoperto Non mi sa che ho scoperto Ah mi sto Mi sto Spaccare tutte le scarpette Mi devo climbare di qua Ah devi venire da me Devi venire da me Ah si? Si Corri 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 Ma non ci scoprono che fanno c'è sta cosa Eh boo Penso io no Mi sei trapassata letteralmente nel ginocchio Olè Merda Oh e qua se divertimo Occhio Ma sai che puoi salire già Salire? Non so come non ti vede Perché più o altro sarei tipo Infatti eri qua davanti Quindi vabbè Infatti ti vedo Oddio ho preso 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 si si Devo solo tornare indietro Ma ti vedo da qua Mi sa che ti vedo Ti vedo No ma occhio perché c'è quello Non puoi tornare indietro Eh follia Siamo morti Ok Di scendere Di scendere Ok niente Eh perché c'è quello che sta guardando letteralmente sopra la te Ci penso io Ah Nooo Merda Perfetto ragazzi E finito il gioco E non lo sciamo Oh mio dio A posto Che non mi ero Ok Aiuta Leo E niente c'è di nuovo per a Ah no era lui per a Pazzo ragazzi E' lui E' uguale Vabbè Allora perdonati ma aspetta No aspetta perché adesso Aspetta Distrae lo che sta a guardare qua sto stronzo Ah no ve lo farò vedere Ah la somiglianza Come sto a guardare un secondino è un po' come essere in prigione Ma che cazzo di me fota Ammetti di fare il sapientone Guarda tuo cazzo devo andare Voglio solo chiacchierare Ma guarda tuo cazzo sto Anazzi Ti lascio in pace No vabbè Dove sei? Non me sa qua dentro Porta lo scarpello Porta lo scarpello Quello a fred Merda Ovviamente è chiusa Cazzo Let me out E come faccio? Ma c'è un look Non è vero un po' Non persino Non è vero Ma che strunfata Non è vero Ma scusa Ma sta scopendo di ferro Ma scusami Con chi giochi con codomo ragazzi Lavora Ma possiamo lavorare Ah possiamo andarcene Ah così? Eh sì perché lui non è controllato forse Ah mi sa di sì Lui non è controllato perché magari sarà Sì e telecamere Ma figurate come quelle telecamere ci stanno Mi sapresti dire quando un mucchio smette di essere un mucchio? Quando è singolo Penso Ah ha visto lo del Ah ma lui mi sa che l'ha detto tipo ai libri Ah sì sì Ma moglie ha messo qua Mi sa che sì L'ha messo qua tipo la liga della libertà Sì l'ha visto Sì l'ha liga della libertà Sì è quello L'ho visto l'ho visto Bello Stupendo Ciao Francia Massimo ma cazzo ho fatto a nasconderlo qua dentro Eh l'avrà Avrà inciso Ah lo passi a me Eh ma Dov'è che si fa solitamente dentro il gabinetto Entra sì Eccoci qua Merda ma ti devo dire mi sa quando arrivano i plotti Porca droia Madonna che ansia Ok calma calma Sta arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando ChI Ok Ok Bartolome Controlla me Ok controlla me Controlla me mi sa che lo posso distrarre casomai quindi ho bisogno che tipo fai il super mega di corsa e vabbè comunque sto coso è c'è ma l'altro l'altro ma di testa però basta 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 nulla 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 è palazza lui si è no è l'altro il palazza si quanti riguarda solo guarda pure me bastardo cazzo vuoi ma che vuoi ora dai 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 ne manca uno c'è un attimo però ce ne manca uno e poi uscire da lì no a ci vuole barre ok sta arrivando uno però ancora è tempo minchia si è veramente a tempo e tempo e tempo e tempo basta 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 si fermata e poi si ferma da me sicura tempo abbia capito si si vuole tempo infatti posso ora la pazienza la virtù cosa che non ho donna mia donna me lo faccio nero sto x faccio la 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 troia sta arrivando con la nostra cosa ma è finita l'ho scolpella merda cavi no 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 adesso ma ambruttito distrai e no ma di stramare via da andare no devo andare via sono confini da oggi ho continuato lo pisciate vero non siamo i prossimi giorni tommy prossimo giovedì interia ora io ho fatte che c'è l'altro sì madonna meno male mamma mia madonna meno male no dai ma che cazzo ma lasciami in pace minghia guardi ecco vai 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 ok controllami tu aspetta perché è arrivato da me è arrivato un piacere che succede tutto posto è sta arriva l'altro se poi poi inizia a capire una cosa faccio io vabbè palestra che ti spotta fp grazie mille vese io gentissimo dai ma ora vieni da me però può anche distrarlo e ho capito ma se poi viene da me è un problema è attaccato capito c'è un conto è che lui di posta deve prende tempo no è inutile ok a destra sta andando via hai poco tempo un po di tempo perché in realtà sta arrivando merda 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 basta 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 a posto non ci siamo ci siamo no non sono non vado a letto perché non sono atti cazzi 2 va a letto sì ma io pochissimo tempo ma come faccio ma come faccio ma come faccio lo so diventa arde qua mamma se ne va lui e poi lo posso distrarre ma il problema è che ecco vedi vedendo da me aspetta può essere che magari sembra lontano così almeno la vita a parlare guarda sempre guarda sempre dall'altra parte perché dall'altra parte che ci sta lui è sta arrivando si puoi andare sta arrivando piano piano anche l'altro però secondo me c'è la fai vai vai dividi vai dividi vai dividi 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 la fai è bellissimo quello con la tastiera si allora faccio è a posto si vai vai vale tutte e quattro tira ok sta arrivando verso qua comincia a premere perché ce ne vuole un po' no basta 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 ok abbiamo già fatto tanto ciao capo stiamo evadendo dalla prigione ah va bene lotto devi distrarre la seconda guardia eh sai che forse effettivamente ci sta e potrebbe essere quella che arriva da te mi sa che poi tipo se ne va a sto punto proviamo prova a distrarre pure la seconda guardia ma non me fa fa niente lui ok vado 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 di stare a prendere si vai vai lui se ne sta andando l'altro sta ancora fermo giù a Cristo Dio va più veloce eh ho capito ma mi sta saltando il dito vai che ce la fai vai che ce la fai io oddio te la fermo è l'altro l'altro è fermo non so perché invece quest'altro sta tornando ma vai ce la fai ce la fai ce la fai no c'è problema nullo perché poi c'è l'animazione di lui che scalcia non ce la faccio quindi aspetta è meglio premere qua buonasera ragazza belle grilletta nervis grilletta ho capito Cristo Dio mi è capito il dito mi è caduto deve parlare col purizzotto per distrarlo vabbè ciccio ci abbiamo fatto ma non me ne facciamo adesso guarda eh no ma in teoria basta semplicemente dare il calcio a quella grata e abbiamo finito sì allora quella a destra non arriva più calcolato e qua c'è fermo non so perché fatto a posto come scappa dalla cella dovevo scappare adesso? eh sì ma come sì? come penso? no a me sa di nuovo chi non spengono le luci? dovevo già vedere ma stiamo a cannone eh lo snap room piano infallibile ma appunto non c'è manco un piano non c'hanno un cazzo c'hanno solamente sto passaggio del accesso pronto? la versione è tipo neanche un quarto del gioco ah andiamo? chiama buon amo non lo so si qua è un macello si ma ci vedono scusa eh non lo so ah ma perché ah ok ma perché giusto in testo le guardie non ci sono più scarsi mamma mia guardiamo a ma sei dentro il mio culo? ok a posto ma cazzo stiamo qua oh ma sta lì ecco c'è di qua c'è niente che posto è? ma com'è possibile? ma a parte il fatto che comunque c'è gli americani cioè fammelo dire ma sono veramente stupidi dopo ti parlo di una cosa ok cioè gli americani sono abbastanza stupidi cioè scusami letteralmente in ogni in ogni in ogni ah dove venire? in ogni gioco in ogni film i cessi sono quelli sempre che portano a ste cose si è vero ah sai che cos'è? mi sa blocchiamo la ventola con questo eh si ah no mi sa che devi prenderlo però è giustamente dici che lo devo prendere mi fa eh diri coperti in lampa grazie che apresì la ventola sta qua best game play mai fatto? effettivamente guarda la merda cazzo la grafica del game play è veramente figo non tengo come non tieni? come non tieni? eh no vai vai ah che più devo aprire qua come and help me ah merda e come fai? ah mi seguitevi lasciare aspetta 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 devo prendermi sa qualche altra cosa io ci sarò di qua che se fa? eh parkour addirittura ah ok devo staccare la corrente ok si si ok allora è shut down puoi andare per ora ah no c'è non corre perché? io con i tasti comunque sono veramente stupida io ah no ma lo mette comunque giù vabbè ah ok perfetto ok dobbiamo fare questo capo da parti ok e mo ah attenzione si va guarda il dirupo si il gioco è molto bello classico l'anzuolo? no vabbè c'è credo che il classico lenzuolo non ci credo comunque no si non mi dire dai ma è letteralmente il club la classica emasione del cazzo vabbè quindi non ci posso entrare anzi possiamo entrare in qualche modo aspetta aspetta vabbè l'anzuola è la demo il gioco completo ragazzi no i sottotitoli ci sono ma non mi sa che me so sbagliata e non li ho messi come sottotitoli? sottotitoli si però ci stanno accedi al magazzino occhio che qua mi sa che possiamo fare delle stronzate ma che sta facendo questo? stanno i sottotitoli ma la palazza sta dormendo ragazzi accedi al magazzino dio mio ma sta dormendo? aspetta che vuol dire? io devo fare qualcosa col carello di prima che diceva allora occhio allora aspetta perché di qua mi sa che non possiamo andare perché di qua mi sa che allora aspetta puoi andare? eh non ti fa andare ok allora intanto esploriamo qua ok qua c'è un carrello però si tilta eh sì eh sì si tilta chiede il carrello tuo prendiamo le lenzuola di qua? le puoi prendere? l'ho prese ok devo trovare un carrello però qua che c'è? prende il carrello da vero? questo che vuole hey man posso usare una delle carte lì eh sicuro nomi e numero per favore vincent moretti 3465 ah scusami ma noi siamo rientrati e riusciti poi meh che faccio? corrompo? eh non lo so non lo so se te non lo so se te te se fa corrompe magari avverte è un po' vedo un po' un po' gobbino è un po' strano vero? un po' dai che una lenzuolata che ne so ci vado io no problem grazie 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 niente aspetta allora secondo me secondo me e non sia per forza devo corrompere mi sa guarda io come cazzo in caso di una scrocca in bocca lo distruggo che devo fare penso che sono ancora vediamo provo a corrompere ma poi se devi chiederglielo tu perché non sono nel dai provo io provo io sti cazzo lo corrompo hai visto? ecco qua tutto molto semplice e dai tutto molto semplice lucarello perfetto mi ha messo carrile mi sa che devo venire là dentro che faccio? ma tu ti fichi dentro no 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 non lo fa a me come a me in che senso? è tu? no come ti pare? no voglio stai nel carrello aspetta mezzo anche questa lenzuola però ma forse è più di uno do a metterne e metteci i lenzuoli mette il lenzuolo sopra devi riempirla appunto devo riempirlo aspetta eh dai shut up qua poi prende il lenzuolo ah dai 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 devo riempirlo eh che hit non c'hai metti altra roba metti altra roba guarda che posso vedere qua ok we're all set nasconditi no si ma che hit ah bellissimo ma che hit ma io posso guardare da qua finchè poi ma ti devi nascondere quando io sto per andare da loro esatto è un problema infallibile vai copriti occhio c'è il palazzo che ti guarda ok che cazzo è che c'hai io su domani appunto ti prende lui è finita eh sì ok è tempo di ridurre questa guarda ora non deve stare a guarda io posso guardare io come cazzo no mi ha portato mi sai che devi uscire sai aspetta aspetta oddio mi sta ritoccando mi sta riportando mi sta portando mi sta portando sta per scoprire una rissa sta per scoprire una rissa ma che cazzo mi ha portato questo no sono un coglione oddio mi sta mi aspetta questo cazzo di cosa sono un coglione ah forse sai posso far partire la scazzottata eh mi sa te sì provoca porca droga no ma che cazzo fa nasconditi nasconditi ma perché fa così ma perché è uscito come è finita in Giappone ma che sta ammazzando sta ammazzando aspetta ma dove vanno a io ma ruba le lenzuola sta ammazzando ma bisogna rubare lenzuola no ma è chiuso aiuto aiuto no no le lenzuola posta aspetta metti dentro di aprire a me la porta a me deve aprire aspetta aspetta putta ste cazzo del lenzuola penso Dio ma che me la porta presto no si è trollata si è trollata aspetta ma che sta facendo ok ci siamo oddio corri come passo io con x cioè non lo so e dove vanno io qua vedi la lenzuola eh ma dove vanno a me eh non lo so dobbiamo mettere la lenzuola questo è cosa dobbiamo metterci ah vai 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 ma è che io ci sono che cazzo sono di affa scusa senza lenzuola te la andiamo ma che sto facendo prendi la sola aaaah è la gratta quella che abbiamo visto fa si 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 ok arrivo ma che hit mi sbaglio sempre ma non ci sono altri giochi così ma che sta hit ah bellissimo quante cazzo te ne devo da eh mi sa un bel po' era bello ok entri è il numero perfetto come ogni vabbè ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ma con molta difficoltà non so come ma a una certa non sbagliavo tutti i pulsanti da capo dal carattacolo ci fa spawnare direttamente là sto godendo fantastico it takes two no it takes two l'ho giocato ma non è come questo ragazzi il takes two è carino ma non ci do no ma il takes two poi ci metti veramente prima c'è un'eternità si c'è un'eternità 30 ore per gioco è così non si era bloccato che infarto ok vai tu prima oh ci sono andata allora tu stai partendo ok a fine ma scusami ma non sono ma scusami è un tubo ma è un tubo ma guardia cazzo oh cristo dio come se deve avere qua vedi qua c'è così facile uscire da una prigione ma poi c'è alzi i tombini e sci fai ma c'è un'eternità ok così facile si è unico il suo genere effettivamente buona fortuna adesso penso di entrare sempre più difficile oddio le fogne un po' di luce amico una torcia non ci può mai essere una torcia dai impossibile come una torcia è torcia trovata poi dietro le pina penso che si ne basta una ma è complicato com'è complicato che è complicato acqua piper stai siamo in due cose di destra posso fare luce guarda guarda graffichina però che ha una bella graffichina bellissima cazzo questa secondo me devo girarla guarda guarda che bravo in caso da che le guardie vi dovranno uscire effettivamente ho dato l'acqua ah ce la porta qua per è chiuso ovviamente proprio di qua sono passati 35 topi all'incirca ti l'ho visti a me piacciono i topi come piacciono ti piacciono non mi fanno paura mi piacciono sono carini ho capito ma da lì non ti fanno paura mi piacciono sono carini mi piacciono mi piacciono pure i serpenti perché ognuno a qualcuno piace le bacioni cani a qualcun altro di altri a te non ci può stare cosa abbastanza regolari come scendo io non posso scendere ho ancora chiuso ah mi devi aprire tu mi sa qua guarda qua guarda qua guarda qua no da canno qua proprio ok ah guarda un po che testa manopola ah quindi mi sa che mi devi aprire tu la porta qua oddio è finita madonna non lo fanno tipo veramente eccoci come tavolo sta cosa c'è il lucchetto grazie al cazzo c'è il lucchetto eh sì è sassone va fai un attimo prima che mi distruggi vai ok guarda là è matto ole ho i miei dubbi che possa funzionare così ok le tarantole pure sì anche se mi fanno mi fanno più impressione i ragni perché si muovono troppo velocemente ma c'è una ragazza in chat da me che c'ha le tarantole ogni tanto mette le borde dio mio però ah no aspettavamo insieme coordinati uno allora tre due uno vai amma mia hai visto la coordinazione amma mia io non vedo un cazzo davanti tu è molto figa siamo tornati a fare giochi horror alla fine ma io sto per dire questo una di magia è un gioco orrore però così no sarebbe bellissimo non ci vuole neanche tanto farlo ma infatti andiamo è dritto per di qua penso di qua no qua dici parco di azze che spavento mi è partito un leverino nelle orecchie incredibile oh cazzo grazie mille per i due mesi bellissimo merda allora fa il giorno in cui ti trovano schiattato vole live così effettivamente la internazio è proprio bello oddio mio fighissimo cosa rappicano ho visto la foto su team ok mi sa che devo fare spalla spalla mi sa quasi filiamo veramente mi sa tanto che sarà così cadrete otto volte calma mi sta mi sta carmo stiamo i migliori giocatori che vuoi auto mesi stile allora calma vai una volta su ok ferma ho sbagliato vai tu ok allora tre allora un vai fare tu una volta poi andiamo insieme calma allora un allora uno al due sì perché sono al tre è impossibile uno due uno due vai uno guarda guardia uno due uno due uno due io farei pure all'uno uno due vai uno Cristo Dio aspetta 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 cicilla aspetta vai uno oddio vai tu sono arrivati risa uno due uno due due ma non si può accadere sì ma è facilissimo in realtà non è vero ma la minchiata oddio oddio ma l'ha struttata ora avrete difficoltà ora che ha detto attorno ma che giochi siete cosa siete abituati a giocare voi oddio ciao ragazzi Luca su Twitch su Twitch voglio rivedere tutto è qua no ma sono arrivati fino a qua con che cosa con nulla no lo so magari inglese ma dovevo ritornare indietro ma come oh Cristo dimmi dimmi che lo fanno fare a loro dimmi che lo fanno fare a loro ah ok perfetto ok lo fanno fare a loro cazzo perfetto quindi ce la si entra lo so Tommy non ho idea mi dicono sempre quando stacchi ma che cazzo ne so ma perché chiedendo quando stacchiamo o forse perché vogliono andrò a dormire ma vogliono seguire la live ok abbiamo il cacciavite è questo però la cosa bella è che ci fa già spawnare direttamente là sì no infatti sì sì ci taglia un botto comunque è molto veloce devo dire zero perdite di tempo mi piace ma infatti la cosa che stavo pensando è che letteralmente ti fanno evadere mi sa cioè adesso vedremo di prigione già al primo episodio succede tutto succede ma appunto per me era il punto centrale era proprio evadere punto sì ok porta nella cella la chiave inglese che cazzo è sta cosa ma non mi è sta a lavorare non so ma lo sa di no aspetta perché se no non finisce mai il gioco allora martello martello di sé non serve a niente scusa la chiave inglese è di questo di qua ah ecco là lo posso prendere è madonna quello martello ah beh ho capito è la mia chiave inglese ah beh sì ma mi ha manco che ma di te a scuola cazzo aspetta allora mi sa che devo lui che vuole lo distrago oddio è questo il posto per ottenere le strutture sì sì posso chiederlo è difficile trovare un'attrezza forse l'hanno rubata è difficile trovare un attrezzo l'appuratorio delle superiori perché non ci provi avanti guarda guarda che posso farmi non ci vedo io sono busi qui ma dammi ma da me sto lavorando cioè dammi dammi sta cazzolica l'inglese guarda quante ne ha ok da qui da qui non si può fare un cazzo mi sa che dobbiamo prendere ah sai che forse devi tipo devi tipo dobbiamo farlo tiltare mi sa questo sai aspetta io favo tiltava ma è quello che abbiamo dato le sigarette si qui ancora la chiave inglese ah bravissimo non me ne aspettavo io per me io stavo parlando non me ne aspettavo che arrivassi i rubassi effettivamente sai che si fa a nulla grazie mi interessa più un cazzo adesso ce l'abbiamo adesso la che l'inglese ora soffava vaga un attimo aspetta auto auto tu hai giocato quello del triance quello nuovo eh si l'ho giocato per un bel po' in realtà feria è difficile è difficile allora ah ma c'è il metal detector porta nella aspetta però ferma ferma io passo perché non ho nulla però mi sembra lo puoi dare d'acqua per venire venire a c'è una grata qua dietro ispeziona si lo vedo eh ma come cazzo se usa se cosa si è forza posso basta basta con molta facilità però ok no perché adesso puoi passare porta nella cellula la chiave inglese aspetta qua ah ok vai eh perché mo ci sarà da fare un po' di impicci mi sa eh tu dici eh fa passare in inglese secondo me ora secondo me non incontriamo il bestione che ci vuole che ci vuole morti sai mi sa ancora è morto ai occhio che si fa qua ah ok dobbiamo fare la stessa cosa si passa vai vai eh appunto certo minchia sono proprio dei dei beodi questi effettivamente mamma mia che te a Bradley Cooper ti sta ok perfetto come fa a non sentirmi come fa a non vedermi come fa e le telecamere dove ma poi improvvisamente c'è qualcosa però vabbè però vabbè salve guardione ah perché nel pacco non mi tocca effettivamente guardione dove sono infilato salve guardi arrivederci ma che è Tony Stark con gli occhiali quelli che mi fa a parlare ah devo parlare io mi sa ma non puoi di minchiate così random ah no ma dove stiamo quale c'è la ho sopra immagino scusami ma poi le guardie non dicono non dicono hai mai detto una minchiata cioè funziona così cioè io dico le stronzate loro vanno e poi basta ma tanto mo scappamo chi si incula capito questo è pure oh merda 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 oh merda si malissimo ci 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 no mi devi passare le cose mi devi passare aspetta passo 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 ora 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 che studio gate e che faccio devi devi nasconderlo ma mettilo dietro mettilo dietro vai let's go top easy troppo facile e comunque mamma mia c'è il cesso col contorno effettivamente no carol non penso ma è un cazzato mamma mia come se d'amo mamma mia come se d'amo e mi sai che questo qua è la grande notte sai eh mi sa di sì abbiamo tutto che caso e invece no attenzione odio tua moglie ma addirittura così random vabbè ma si aspettano due secondi letteralmente le evadiamo attenzione attenzione il suo nome è vincent sembra legittimo mh sei sicuro? io mi chiedi abbiamo tutti pensato che potremmo confruttare Harvey che cazzo è sto Harvey Ebo anche lui usavo da che fa 24 Tommy capito grazie per avermi seguito ok quindi come è Alex? beh è stato sei mesi il figlio me fa il mio verde si è molto mio verde che pure in realtà non è vero è il mio verde si basta coglioni ho trovato una nuova casa dovremmo essere al sicuro per ora chi cazzo è? mi sa che li insegue ancora sto tizio mi sa che è tipo il main villain ma no poverino ma cucciolo ma cucciolo bello ma che no sono solo un cuore ah la moglie è incinta ciao ma incinta di un'altra mi sa ah no che è il suo almeno il suo no ma io sto Harvey oh la faccia da stronza l'ha pisciato l'ha distrutto l'ha annichilito Luca grazie mille sta puttana vabbè la madonna ma non manca da gelare cioè capisco tutto poi toglie questo cazzo te nome qua che c'è di nuovo il brasiliano? no ancora il brasiliano te prego gli faccio ok è il momento cenno di annuizione attenzione diciamo occhio è la notte signori eh sì è arrivata è quella ci siamo fuori tutti oddio subito subito così? eh sì per forza occhio andiamo da lì saliamo ma quindi dobbiamo rifare proprio tutta la strada tutto? no non credo no a noi no ah no via via ci sta facendo spavare direttamente là forse sì sì quando è che apriamo quella che va inglese volevo la notte del giudizio hai visto? eccoci ma che bello oddio mio non vedete la grata perché c'ha per caso ho detto per forza ok tocca a te eh non mi fa stavo premendo R non mi chiedere perché mantieni fai così giri giri vai è il momento let's go sado cazzo sponamo qua ora usciamo ce la guarda ci spara e moriamo cioè così almeno finisce il gioco sarebbe comunque una hit ci mi alzerei e applaudirei mani di schienza posso dire adesso posso uscire da passare ma perché gestamente tu ci sei da anni tipo ci sei da me anzino da mensip io chiaramente il giorno dopo sto vedendo il giorno dopo esatto questo è quattro giorno facciamo tra 100 spallent attenzione l'ha preso ti ma sta portinando ma che sta guardando il derapo godonda guarda 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 con te la po se il eh m anche qua ok sì la grazia poi è tutto perfetto c'è anche il carrello per farire no c'è incredibile sì c'è tutto è così facile a posto e questo quasi quasi guarda che faccia restare per evadere io ho passaggiata per spazio super easy se la casa con i basettoni cornasone ok c'è una guardia caso qua o ci sono due non posso io anche se capito merda come si fa ok sto salvando qua ma luce grazie di 4 lunetta merda mo che si inventano vabbè possiamo camminare dobbiamo andare qua a sinistra si merda sarà chiusa via c'è via c'è ma sì con i tuoni bellissimo chill ok aspetta pronto si appena vai il tuono via ok intrippatissimo dai vai intrippatissimo quasi mamma mia ragazzo siamo fuori cazzo si si la che dobbiamo andare alla torre è aperta merda o no sarà tutto steltico adesso guarda la mamma io sono capace a forza e power of free and ship ah io no e io ti ho fatto in beh come metti k o passeremente è per forza per forza con forza non sentirmi non è vero letteralmente un millisecondo non è possibile non è possibile ci sono altre guardie qua io che cazzo sta fa questo in piedi andiamo di qua no ma io non entro no andiamo fuori ad entrare quasi si sa ma la testa si la destra in teoria o no è qui no dove siamo salite prima sì 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 di qua di qua di qua guarda qua ok non è quanti cazzo di tasti del pad che non mi li non li so xbox da molti tasti strani ok comunque la prossima bisogna farla secondo la con le doppie ram si messa a sinistra e una destra a me nella hit che fa così rompi ma così proprio ho fatto un errore mi sa hai fatto un errore e no mi sembra che dovevo un attimo aspettare prima di rompere invece no madonna che grafica è la bella cazzo stamo qua o mado è l'ufficio il direttore mi sa bene ma io sto vedendo elettorale pacifico ma prendo l'italia perché mi ha fatto prendere il telefono ma sono c'è di stavolta mente vedendo infatti c'è talmente facile che finestra 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 non c'è un problema c'è qualcuno lì dobbiamo fare attenzione viene da 26 di quali 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 il tizio santo è la scienza era l'ascensore ma la sua chiacchiera così tranquilli come se nulla fosse ma devo scendere per di qua ancora sicuro che stiamo affatto la fisica il cicile diritto e diritto no ma ci sono stato già qua in prigione ma se ti diciamo stato lo conosco bene eccoci salvando a di qua ma questa è dove stavamo prima essi l'infermeria meno è ora mi sei dobbiamo attaccare tutto insieme è messa tesi e pronta aspetta che mese in palla al personale c'è 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 la destra testo 321 poi minchia oh no è la fase stelte questa con la luce rip rip cazzo ricordi 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 ho fatto un metà passato ragazzi finito il gioco come si è abbastato oh mio dio ma io no eh c'è la luce the end si è finito il gioco ok qua vai 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 scendi scendi tutto detto per detto me lo faccio davanti sono morto no 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 cristo dio la testa passata luce in merda corri 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 sono già qua davanti e spettare lo shot mi sa posso sottarlo che intorno a mi vede più lui ok sto stavendo lo shot lo shot vaffanculo mai stato si grandioso ok no merda il cavo in ufficio qua ci sarà qualcosa sì ma non so il cuore sulla destra io questa staglia e scale non ci credo che dobbiamo fare delle grucce non ci credo mai che dobbiamo fare delle grucce per scendere delle grucce se morimo sicuro è ancora amore 100% ragazzi via no vabbè ce lo posso credere merda che ce l'ho fatta perché io sono sempre che parla così spezzerà e appunto di spezzerà e andrà finito c'è devo salvarti tipo secondo me è sempre così vai ci siamo mamma mia regalo no no la no c'è l'ho visto cazzo salendo questo presto questo stavendo stavendo da raffoderno di merda non mi prendo solo è possibile cosa ci sono ci sono corri 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 ora penso proprio se possibile modo casca acqua è tutto in fuggitivo a odio pure la fascia ma sono fuori già da prigione poi corri ordine forte corri rialzò correndo si accorrendo Quale cazzo è là Dei stupati di merda No sei morto Ma non ci abbiamo fatta L'abbiamo fatta Siamo fortissimi Cioè Ci hanno finito in mezz'ora Ah sì Questi qua erano way out Scusami Allora c'è tutta l'ora di Siamo usciti Di Harvey Come si chiamava Ah guarda Riscrivimi scusa Mi stava giocando Stava un pezzo terribile Volevo chiederti una cosa La prigione Quando ci sono Anche dentro quel pozzo Sai su quella roba Schiena a schiena Are you friendly? Non davvero fatto da bambino? No No Qui stavamo per morire Un quarto di away out Dopo Nervi già fuori dalla prigione Quello dovevo praticamente Ancora spazzare per terra I can't fucking believe you talk me into it Me neither Ok Finito Bye well Eh no Eh no Mi chiamiamo finito Come on There Gruppo del che erano tutti a favori a Margot Siamo qua? The chopper? Yeah Ehm Ah è diventato giorno tutto questo Come so vai E bu Cioè Me ne do Così Ma tu ti devi Ma tu ti devi Ma il dribbling? C'è ancora un'altra Ancora messi Incredibile Ma una veronica assurda Franco Oh ti ho superato Sì Oh l'odio Ma io dribblo però Eh qua tocca fa insieme Vai Ma che sta a sedere sopra di me Sì stavo Stavo Come on Io ho visto la vita che urla e sali Mi hanno parlato di nessun altro Grazie Andrei Sì è un po' uncharted Sì sì un pochetto sì Stamina 99 Velocità 90 Tutto 99 La carta 99 Ah oh merda E qui è un problema mi sa Merda Cazzo so questi Merda sono le guardie? Eh sono le guardie sì Era I pulotti Non mi vuoi vedere Follia E te ne la fratta Ma dove sei tu? E' una fratta Eccoti Sono diventa un sasso Ma possiamo Ma possiamo Ti può stordirli Mi sa di no Credo Poi si sposta Se non è E quando cazzo se ne va Però E' mo se ne va Via Mi sa molto di Alan Wake Questa parte Che Così Posso scendere E si però Ma ammazza di qua Ah non posso scendere In realtà Non posso scendere Lo stragazzo Sto andando Cosa sei? Mezza fratte Come una volpe Ma dov'è? Ma sei fratte Vai lì Ah sei più davanti tu Nooo No si sta bene qua Non possiamo più andare No merda Fermo Ti faccio il giro da dietro Oddio posso ammazzarlo Oh Eh qua qua A posto Listo Oh bagno Oddio Mi stanno a tre 16.000 Merda Ci facciamo tutti Non è un problema C'è anche il senso Cioè nel senso Li ammazziamo tutti Li stordiamo tutti Go Cazzo vai Aiuto Dritto 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 Sil Ma che Sil? Merda Faccio la faccio la fai No è vero Non è vero Lo faccio fuori Sono pazzo Porco diazzi Ma si Salvate Che stai affassando Che hanno Che puttunata Merda Merda Ma l'avanti Ma qu'ha fatto a vedermi Ma è dall'inizio Nooo Voglio morire Ma è dentro le frasche Ma perdonami Cicci Ora che sapevo Che possiamo assordire La ammazziamo Ma andiamo Ma andiamo da sotto Senti Appunto Oh cazzo Cazzo vai No C'è un problema A posto vai Guarda la cc Oddio Mamma mia Rega Mamma mia Ok ne ho 24 Questo è quello di prima Che c'ha Che c'ha Vì che mi ha visto C'è non lo so Merda Lo stai Porco 2 E C'è 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 Stai Interamente con il faro Sopra di me Sopra la mia testa Ma dove sei E nella fratta qua Ok 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 Perfetto e draghi a lega se vengono sentire ancora è sempre almeno salvato ma sarà buggato ha salvato si è salvato quanti minchia non posso dire detto per dritto ma scusami tiriamo 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 dritti e no ma si può andare proprio di l'altro tra l'altro andiamo dritti che ci sei freddo no non lo so ma penso di sia ma chi no sì ti sei fatto o cosa mi senti sono andato attimo là dentro che è successo non capito che cosa stai facendo come che cosa non dico a posto è andato là dentro che è successo di fatta sei tu questa volta però è cristo dio tanto ma come ha fatto a vedermi era girato le spalle è un po è un mostro te l'ho detto un pazzo lui al mio mostro è fortissimo corri 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 a questo punto mi mi stoppo qua perché questo è un pezzo di merda io prima l'avevo stoppata ma comunque questo è ok via c'ho fiesta io mio io mio scendi perfetto scendi perfetto scendi perfetto che sta lento grazie per le due o mio dio ma qua stanno ancora entrati giallert della madonna spam di focaccine grazie ok ok mi sa ok io vado a sinistra e tu vado a destra aspetta mi aspettami ma si devo che l'imbarca non è stata peggiore ok allora 3 2 1 vai troppo facile mamma mia madonna sull'orecchio 2 mi ha rotto un timpano ancora no c'è la foto in che senso il cazzone è vista adesso la foto di shrek eccoci eccoci ma come si piazzò ah proprio così con i posti di blocco stiamo che cazzo ci fa mamma è per forza prendiamo la macchina e vediamo impazzisco a gioco dell'anno bello si bello sotto proprio ma sopra quel tipo io abbiamo l'auto attraversando il ponte ah che facciamo? oh merda passa sopra il ponte e passa sotto al ponte merda dai facciamo cacciare facciamo sotto sotto al ponte facciamo cacciare ci sto che delirio ragazzi che delirio credo in teoria sono tutte giuste tutte e due ok cioè scusami 8 macchine c'è un poliziotto solo? eh beh sto male ah io sto dietro mi devo nascondere? ma non ha ma scusami ma non ha parole non ha parole ma come ma si capisce cazzo un poliziotto ma scusami aspetta sennò guidando tu? ma guidando io? ma vai a tutta velocità ad arco 2 oddio 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 attesa attesa me sono cagliata su quel cazzo di cosa oh battalo se deve affanculo dio mio o chiudere tua possibile è possibile è possibile una lunga guidata dal volante pericolo costante certo dirlo dirlo letteralmente prima della festa delle donne è un po strano e vabbè che cazzo non cagliata giusto grazie france non ce la faremo mai staremo qua tipo non mi guarda non mi nascondo manco più tanto ormai io perché c'è sta cazzo di macchina che mi fa sbagliare ma perché va da pazzi opera dai è impossibile sta cosa posso andare il piano fra manna piano dai se no qua veramente no non me lo fai veloce no non me lo fai veloce però questo è il principio ma mi spado però questo è il principio ma perché mi incaglio qua zio pilo dai frate ma perché non mi incaglio qua cosa prendo no no questo è il principio questo è il principio è che poi tra l'altro le usa pure il controllo che deve essere ancora più in seria no minchia scusa prendi la sinistra proprio prendi la sinistra ma da sinistra salvo cazzino però andrà a sinistra non lo so prova ma no c'è un'altra macchina fratella ma si 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 sarà meglio oddio non è trovare ma dove cazzo andiamo qua non si vedono là oddio ma siamo morti siamo morti non è stata un'ottima idea ma è impossibile cazzo dovevo ricorrere perché qua ancoriamo cioè più ci siamo diventati paralizzati è probabile a noi siamo totalmente manco un graffio apposto perfetto o merda o merda o merda faccio dietro i cani non mi sento prende io no la trollo la trollo la trollo la trollo bello oh dio oh mio dio ragazzi Molto la fatta in puro se resta Questa scena Si è figa sta fatta Bellissimo Oddio Abbiamo ancora di qualcosa? Dove? No? Vabbè non penso Il presente Un film regata Guarda questo è proprio bello secondo me Sì Eccoci qua Oddio Harvey può essere La grafica delle cazzine sono Oddio Mike Harvey mi sa Hai Harvey? Sì 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 Bastardo Un altro gioco così Secondo me è Lister Nightman A giocare in coppia Madonna è bellissimo L'ultima deve uscire però C'è quello in coppia Leo è basato da prigione Olè E vi sa che cazzo ha combinato È cazzo non è combinato L'ultima coppia deve essere L'ultima lister nightman deve uscire Quest'anno forse Sì Lister Nightman è bellissimo Quello Di questo è letteralmente Harvey Ok Ma tra perché hanno tutti Ste basette di merda Che le ha l'età Ok L'epoca Oh È matto un culo Harvey Così Random Totalmente random Devi giocare con le prima Per la lore È in caso di gioco Li gioco Li gioco Off stream Anche perché ormai sono invecchiati Ci non ha senso portare Little Nightmare Secondo me È lungo eh È lunghino Qua se ne devi giocare due Eh Però Però sono gioconi Eh Lo so Proprio belli 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 Oh Daxin Bellissimo Non è tanto lungo? Ti tornavi per te Se fai uno Un e due Insieme Un po' Guarda tu cazzo stanno Per me sono lunghissimi Ma tanto lunghi Sì Oppure dire sì Sono venti ore insieme Enormi Eh però te posso dirci Io penso che A ridosso dell'uscita del tremese Che mi rifaccio la rerun Eh Sarebbe sì Effettivamente sarebbe Sarebbe da fare Anche perché l'ho giocato Quando non mettevo ancora i video su youtube Quindi è un peccato che non ci sia E' tosto eh Un po' è tostarello da far È tosto Sì Soprattutto la voglia di giocarlo Eh Ci sta Ci sta Ci sta Grazie Marichan Grazie tesoro Meglio lunghi Mi piacciono lunghi Bella piazza Sì Assoluto arriviamo Arriviamo al prossimo Si sta creando Dici a mezzo come sempre no? Sì Arriviamo al Pensa al salvataggio Ora Il prossimo checkpoint Sì E appunto Posti e lunghi Ti metto l'ansia forte Ma cazzo che sono belli gli enigmi Mettono ansia Little nightmare Mettiamo ansia Sì Un botto Un botto da morire Vero? Sì sì Sono delle parti Allora la porto in live Bastanza difficiline No ma guarda che è bello Secondo me Da portare in live La porto in live allora Sì Ti fai tutta la serie Eh Drawi dopo No non penso Tommy Non penso Guarda i pesci C'è un accampamento Ma C'è nessuno Ma ho capito Ma come un accampamento Ma che che si fa al accampamento qua Non lo so Quindi adesso loro sono letteralmente i più ricercati d'America in teoria Eh praticamente Quando evadi sei il più ricercato d'America Non c'è un gioco più angosciante Di Little Nightmare Fatto molto bene Movi salva nervo Ha salvato? Oh io ho fatto la fiocina eh Sì 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 Allora Ramoscelli Ah ma tu stai già Eh però da sola Ma sai che non si può fare Si può fare due Stai già pescando tu Sì pescando Un parolone Da là a te Signore il Pai Bellissimo Benvenuto O aspetto qua che arriva qualcuno Qualche pesce sotto Come hai fatto a fare la cosa? Eh c'era un puntino su un Su un legno E mi diceva Crea fiocina Ah forse devo mettere giù può essere La Moscelli Non è un oro La Moscelli l'ha fatto? Eeeh Cos'è ci si pioggia? Eccola Eh ok vai vai Tu qui da codomo cani Ok Almost there Ah no ho fatto in due questo Perché tu devi Devi schizza l'acqua E io catturo E poi Ma come cazzo hai fatto? Ma che buccia di culo c'hai? Ma hai messo il piede nell'acqua E l'hai preso Dai che culo Ma che culo c'hai? Il più forte Che devo fare? Dovevo mangiare E mi devo mettere qua a mangiarlo? No ma devi fare più pesce a me Eh qua 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 Aspetta Quindi se io faccio Vai dall'altra parte Ma dove? Ah si mi devi schizzare l'acqua Aspetta Te la faccio andare Eh no non posso Perché ho il pesce in mano Così suona veramente molto male Effettivamente Suona molto male Però No sì ci metteva un quarto d'ora A far sta cazzata Te lo giuro No no ce l'hai Ce l'hai ce l'hai ce l'hai Ce il cicil Vieni qua Ma dove Eccolo Allora vai Tu cammina E loro vengono qua Cioè per forza N'è uno N'è uno ne è uno ne è uno avvicinati avvicinati vai 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 ma spariscono sì perché tu allora senti vicino al fuoco di mangiare il pesce vicino al fuoco ma che roba incredibile cosa ragazzi ha visto e daje è stato più dura effettivamente impostare le fotocamere che che fare il tutto comunque è incredibile ma che stai ci fanno schifo faceva schifo anguilla del lago fanno i raffinati cristo di quello che fanno male per due anni io che me lamento chiaramente guarda no signor non ho visto la serie sul rocco io non era quello che aveva telefonato alla moglie e gli aveva risposto a cazzo no e lui è stato pisciato deve anche perché ce l'è più lungo del no 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 piaccia di no non penso cazzo non ti manca ti capisco non sono io ma questi che cenano usciti dalla regione quello che trovano mangiano appunto ma infatti che questo quello che dico sono stati quello è stato da dentro mesi letteralmente ha mangiato pane e acqua per secoli infatti per cazzo per un pesce stanno conoscendo meglio carini a merda è vero ti devo specchiare sono un coglione ma io pure mi devo specchiare oddio stanno stanno schippando ma perchè sei sparito non c'è sai più ora no ma sono sparito e si ci sono ah ma nel tuo stream ma perché è tutto grigio ma che è tutto grigio oh ora sei tornato ci sono ma perchè se ne va aspetta va ah zio pero però eh ma perchè va via ma che problema è ho scommesso di cero su un tuo crash oh ecco è tornato azz do scappare eh direi che è il momento ma poi scusate con l'elicottero là davanti non li vedono ma poi scusami ma poi scusami ce lo si fermano accanto alla prigione c'è allora sei stronto perdonami sì infatti cioè due passi alla prigione vabbè mi fa gli scherzoni nervi sparisce non so perché faccia così discord non mi sa desidera ma basta di 25 anni comunque è impossibile che non li trovino cioè ok si va so ah può essere siamo oddio mio si è un povero visuale lavoro in banca che che lavora in banca tu io lavoravo in banca penso ora sono un quando vai un nevaso lei può rimettere la macchina del gioco al massimo no 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 ci dice cicilla e può essere una fattoria oh la fattoria è alle fattorie una fattoria magari ci si può sparare quelli che ci vivono ma siamo tutti c'è una casa diamo un'occhiata attenzione oh bella sta fattoria però ma scusami ma ma perdonami come on man cioè questi qua bloccano il cancello della fattoria con questo pezzo di metà di carta sto voglio di carta utile eh infatti c'è qualcuno no ti possiamo sgozzare ma sono due vecchi li possiamo sgozzare ma due vecchi vuoi ammazzare li possiamo sgozzare sgozziamoli allora se ci tieni così tanto no calma li possiamo sparare oh madonna ma poi è una doppia madonna il mio marito stanca su cui fare butti se mettono piede qui assaggiando il piumo della vecchia Betsy no ci vuole rilare si due vecchi magari c'è regarli per esempio questi c'erano col fucilenta sul tavolo liberiamo i cavalli sii ce li rubiamo trust me e non mi sei forse go get them back per andare a riprendere diversivo eh sì libera i cavalli soggiòca la coppia oh tocca decide cioè questo significa che li riprendiamo li leghiamo eh tipo sì dai liberiamo i cavalli tu sei andato su social vuoi andare dai veramente vuoi ammazzare va bene ok ok then front door should be on the other side schioppettavo i vecchietti ammazza oh erano più belli i cavalli però eh calma dobbiamo fare misa misa lo stealth io non sono in grado di fare lo stealth lo sai che adesso te la trollo ce la facciamo ce la facciamo uno su e uno giù ah oh mio dio e se dove cazzo vado io oh dio assassin creed si un mostro ma che è che aspetta io devo andare qua mi sa che li devo prendere da dietro dove va aspetta oh oh ma guarda sti vecchi che il campionino di Giovanni madonna ma che cazzo sono tutti quei vestiti che si mettono i camici in croce ma ascolta io che cazzo devo fare ah il vecchio mi vede moe come ti vede ci mi vede che sto qua rompi mi sta per venire a distruggere oh mi sta per venire a dire no no dove vado dove vado che devo fare io non lo so non lo so fa qualcosa sta per venire ma che fai vabbè manca a fare così comunque ma io ho spinto il reti forse no però eh perché forse era troppo aspetta aspetta provo a risalire e fu così che che è il nostro piano di evasione cioè siamo usciti letteralmente da una prigione a massima sicurezza e poi si fa direttamente sciottare da un vecchio rompi qualche altra cosa oh ma ma come ha fatto a veder me il vecchietto ha rompo questo ci riprova ma secondo me era era veramente a un passo dalla riuscita oh la troia sta andando a prendere posso sbriciare sta chiamando la polizia la polizia la polizia la polizia ma questo ma che fa ma scusami è che è avuto qualcosa e questo così sta fermo da destra da destra ma ti ammazza lei ammazza lei ammazza lei oh oddio no oddio damn criminal ma eccoci non la passeranno liscia guarda cosa ci hanno fatto oh ma sparai in posto vecchio appunto ma che puoi fare damn criminals ah addirittura ma moriranno di fame ma che cazzo è vabbè moriranno di fame la dentro si mangieranno come i topi da soli ma chi deve trovarsi dove è scusami no no ma poveri furgone dietro al sedile ma poveri e vabbè dai ormai la vita loro l'hanno vissuta cioè si scordamo là e vai al furgone a mo stiamo pure col fucilo a pompa cioè grande guarda che casetta ma che cazzo stai facendo stai curando i vestiti al vecchio ma ti sembra il momento di di fregare i cappelli al vecchio aspetta no te fai non c'è credo te fa mettere pure ah 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 ma va va ma ti torna addosso ma che palle vabbè vai al furgone ah già cambiamoci abiti che la polizia ci riconosce ah perché possiamo penso suona il pa non è vero nice dammit no ma dove sei su no giù qua giù ti ho sbagliato ma possiamo fare le sfide e che cazzo dici dove sei eh sì dove sei dove sei giù e non ah ecco no lo vedo non vedono no dammit ok niente niente l'ho trollato ma vabbè sì ok basta cioè ritrovi tu la seconda che merda devi inserire i corsi di piano bellissimo ma il piano sono veri hai fatto benissimo allora che suona 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 va vai si suona va vai io vedo suona suona va vai io vedo tranquillamente eh si 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 mi mi oggi sto sentendo è perché non so quali sono i tasti di sto cazzo di pad arco ok 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 yeah yeah vai mostro oddio ah godo è bastardo godo godo ma posso suonare con te che fai godo 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 ma che cazzo è x sto tazzo ho vinto io ho vinto io ma cosa cazzo hai vinto scusate guglia oggi grazie mille ma perché non mi prende la x cazzo puoi cambiarti nella cabina armadio vado ma che è una coi vestiti di merda no ma c'è una porta segreta si ma come è corto sei ma partite nel frattempo la polizia è fuori ma sei sopra è una porta segreta cazzo ce la tagli tutto a posto tu ma che ma può essere che possiamo veramente cambiarci dov'è qua 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 oggi possiamo farlo vai vai che carina perché già l'ho visto è bellissimo che nasone madonna è un'altra persona io non trovo le cose dov'è cambiati perfetto naso grosso è la regola mario sturniolo lucian grazie mille per esempio tutto sentire tu come esci io come sarò si va bene ma che cazzo è ma sembra un giacca militare eh si si trattava bene vabbè va andiamo al furgone prima che ci scoprono aspetta voglio fare un riposino un riposino aspetta che vengo posso mettermi a letto ma ho sbagliato stanza e tu è qui no aspetta non è vero che cazzo fa sembriamo due deficienti però perdonami però perdonami certamente non è più oh costruisci va bene le cose più belle hai rovinato tutto ma come ricostruisci no no vai via allora vabbè andiamo a continuare siamo qua veramente ci perdiamo nella lore vediamo ho trovato una cosa grazie per i centri calcola che non sento non so perché mi sono bugati gli alert non sento gli alert te funziona una cosa non te funziona l'altra la mia vita è sempre letteralmente colorata il furgone dov'è qua giù oh oh ma che è ma da ammazzi no non farlo non farlo oddio ah ok va al furgone ma perché la via più difficile mi troppo gioco il carriano infatti c'era un fucile sul muro ah davvero c'è la fucile la ferie di cavallo non ci credo no si è sfida 1-1 aspetta sempre nervici in questo divano non perdiamoci andiamo avanti non perdiamoci in questo veramente non andiamo più avanti dove cazzo sei ragazzi un peggio pieno punteggio pieno vai fatti meglio oh ti ha mozzicato ma guarda che coglione punteggio pieno provaci ringerit pool land ah ho vinto io punteggio pieno impossibile riprodurlo che carino daniele grazie voglio rubare un cavallo di rubro un cavallo voglio rubare un cavallo voglio rubare un cavallo voglio rubare un cavallo no si rimette al volo valgono di più panica di benzina è occhi che ci sarebbe il furgone noi stiamo andando facendo delle cose prima che succedono ok una panica di benzina ma il furgono dove cazzo è là dentro genti eh sì no ma perché mi sta fare giusta la lampadena dove cazzo sei comunque tutti stiamo facendo i cazzi loro verissimo c'è qua dentro ah ma qua è il furgone no devi venire tu oh no oh no devi venire stavo cercando di capire se potevo incularmi un cavallo ma non penso ciao giù ma dove sei vai diritta vai diritta e poi vai a destra ma scusa ma vuoi rimani tutto quel tempo lì finché non arrivo così guarda sono anche in una posizione un pochino strana quindi devo approfittarne aspetta devo prima giocare ma come aspetta ma mi sta prendendo oh sì i rock si sta prendendo la scoliosi ma come aspetta ma fa vomitare ragazzi ma è scandalosa ma è vergognosa mamma mia mai visto una vergogna del genere allora non vado schifo ma che vergogna i rock no chiudiamo la stream si è impossibile chiudiamo la stream perché ma quanto devo dire ma dai come è possibile allora no però aspetta ma per me è una stronzata io l'ho fatto solamente con 5 con 6 no con 5 ma perché non me li mette cosa devo fare crap cupone i rock ma vaffanculo lei quit addio come ha fatto 12 punti che non ho messo uno neanche forse di più forte oh dio mio eh niente io in tutto questo ho ancora la scoliosa mi è venuta una sciatica mi è venuta a stare così aspetta non so dai che ti so oh vai lì grazie oh non me l'ho tratta bene i gatti a coglione cornasone cosa stai facendo cosa stai facendo dove sei drittura dritto lì ah sei lì povero cristo che sono fermo così da mezz'ora ti hai preso il colpo d'astrica calco oh no 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 come mi alzo no vai che sono castrata mo che è no incastrata come over here come over oh mio dio calco che sono state in prigione quei due occhio c'è solo non è normale ma com'è mi sembra la macchina quella di walley quella tutta distrutta come si chiamava a rotino che si chiamava a rotino giustiamo resteremo fare qui nemmeno si dica ah oddio ma toccato giusto a sto cazzo che è il furgoncino di cars come si chiamava pistacchio come si chiamava non mi piace cazzo non l'ha mai visto manco io però davvero mi aspettavo mi fa schifo un cartone animato che ricchetto cars fa vomitare capito perché sono maschio quindi merda di film walley miglior film della disney pixar a ragazza guarda ma che è sembrano veramente fatti da che prospetta ma che cazzo ci devo fare con sto bastone scusami oh solleva oddio oddio sono matta sono mattissima mo me esce l'ernia quindi ma ti do aiutare no guardami mi esplode un rene tranquillo ah ma spero devo alzare per montare la ruota spero non ho ancora la ruota ferma 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 secondo me ti conviene andare lì perché c'è una ruota all'altra parte del finire vabbè chiave a croce aspetta aspetta mi sa che devi mettere che cazzo è sono orazzi e gaspari della carina 101 bellissimo aspetta aspetta prendi il bastone e sali butta giù butta giù qualcosa che cosa butta prendi il maniera ah no aspetta devi prendere qualcosa ah ma ti aggrappare vi sa proprio con le mani si si vedi qua sali sali ma ti faccio fare un volo vieni qua ma è volo sarà una lunga stream è probabile ma diventantissima ah vado io ok vai è un salame che sto vedendo no io mi stavo staccando le braccia però vabbè vabbè con calma con comodo con comodo con comodo tranquilla ok sto lanciando le ruote che devo fare mi tolgo da qua ma mi posso buttare io ma che fa oh guarda qua come si fa ti ho lanciato oh ma che mai di te ma che sei pazzo ah ok solamente una ok quindi adesso no con comodo ah no perché posso buttarmi niente a posto ok allora io sollevo e tu monti vai eh ti serve la chiamacroce però anche a me vai ah si vai abbiamo intanto già la mettiamo ok ok la chiamacroce ok now we just need to screw in modo che prendi i bulloni ok no basta ok che basta meglio ok che vai entriamo siamo pronti un pochino importanti in una coppia ok ok il ceppolino si leva eh un attimo sto facendo cardio dopo essere stato tanto tanto in carcere che cazzo stai stai sul tapirula ok non mi è passata dall'altra parte scusami non ho fatto cardio te l'ho detto di movimento non fa male ma sta macchina un reggio un cazzo ma parte arriva il furgone ma parte che stanno a partire un certo delina ma si si era asportato guardalo no si apri sto coso come si chiama cosa scusa vabbè è un problema i tecnici come la batteria è andata la batteria è andata dove cazzo la trova la batteria signori dio intanto si mette la allora nel frattempo trova la batteria che secondo me non è qua sai la cosa più difficile la cosa bella sai cos'è vado della non tanto noi ma i vecchi che sono legati ci sono ancora i vecchi legati i vecchi legati ma li vogliamo slegare no questi pezzi non penso che possa essere ok è più di benzina è che si è parte oh ma che cazzo vuole questo gatto che mi soffia ma è stronzo proprio mi sono infartato tutto che cazzo è andate a cavallo private prima è vero ma infatti non capisco perché non ci fanno prendere i cavalli oh c'è una vacca c'è una vacca c'è una vacca ma non penso sia ma non penso sia per la missione la vacca è uguale però è uguale carina guarda ma non penso sia ma che è è Bessi ma come Bessi ma che cazzo fa conoscere la vacca ma sto spiegando acqua ma scusami comunque siamo veramente due persone con i problemi cioè veramente sta a tocca a tutto che bella Chiara Ferragno no no ma poi sei qua dentro ma dove cazzo starà sta batteria guarda la batteria non finire sinceramente mi sa che è molto strano no povera mucca ma dai ragazzi dove cazzo è sarà qua scusa la batteria ma soprattutto perché mi fa andare qua sopra è inutile ah beh perché esplorativo ma che mi serve ma boh capito esplorativo ma qua non c'è forse aspetta ma che non c'è ma tu cazzo sta sta basa dentro casa non penso sia dentro casa una batteria di una macchina mi sa che da può essere può essere che dove c'era proprio la macchina magari è in giro non l'abbiamo vista boh sarebbe un po' triste della cosa oddio ti prego passando dai maiali guarda ci sono io eccomi non è bello ok ci sono io ufficiale ufficiale di che deve ufficiale come finita su farming simulator guarda che carini maiali nervi cerca la batteria codo ce n'è la vacca oh guarda posso credere diventerà un delizioso bag le galline le galline le galline ma basta ma vai a trovare la batteria pensa c'è te che io non te l'ho trovata sì ma non c'è un cazzo ciao ma io mi immagino questa ma come ciao oh let me give you a boost ma questo c'ha problemi mentali comunque ma come vincenzo guarda qui un po' lo volante ma sei serio te chiamo pure oh vincenzo guarda che roba la gallina vola che guarda che roba poi arriva la polizia mi posso aprire il frigorifero ragazzi ma che sto vedendo hanno qualcosa di buono oh no ho detto di nuovo la gallina ha preso bagno ma di questo sto facendo una birretta mi sa oh oh che schifo sti vecchi no raga deve esserci qualcosa animale qua dentro allora ho accarezzato le galline i maiali la mucca e i cavalli i pezzi siano finiti in realtà grazie Albus grazie mille ah ma c'è vero un fucina ma posso prenderlo e piglielo senta assoluto mi sparo guarda faccio prima mi sa la riga dove minchia sta è demorativo già trovate sta batteria qua ogni stream andiamo avanti del 3% di gioco no non so dove cazzo sia nella piantina vabbè senti fammi uscire che qua se no veramente è finita ok allora batteria batteria dove può essere dentro casa non penso ci possa essere una batteria senti non c'è ho cercato non c'è in teoria nel fianile hai cercato e non c'è questo dov'è la macchina mi sono incastrato come? ah di cui non posso andare eh no di qua non penso ci sia a questo punto penso che dove sta la benzina può essere provo a rivedere lì e io ho guardato là ma non l'ho trovata prova a cedere la nuca se è stata la batteria che è successo? ma che è? non so ma stavate dietro ma stavate dietro ma stavate toglie sto coso ma è questa? ah ma tendi no spero non ho capito ma perché c'è c'era quella visuale strana? vieni un po' un attimo qua puoi se devi levarla tu? no no io ci sono andata là non me l'ha fatta oglie come no? eh oh non me l'ha fatta oglie ma come taglia la legna? sì ma ma se ne ha letta? io sono andata dovremmo trovare la batteria ok ma non la trovo non so dove cazzo sia posso carriare? vai pezzo carrià dimmi dov'è ma che era? asteroid veri grazie grazie per me dove piazzò? i cavi sono al trattore? ok è a batteria? la batteria ci manca ma mi sa che devi prendere quella della macchina aspetta vai a prendere la vado a prendere io dobbiamo caricarla devo prendere la batteria mi sa della macchina e portarla lì dov'è essere? ma zi? cosa ma zi? ah fatta forse ho capito ma fatta non sto capendo codo ma sei vomitevole? la batteria sembra morta ma come cazzo si fa? ma come va? non è possibile non è possibile che non ci riesca quando cazzo che cazzo devo fare qua? non è possibile sei vomitevole ma perché? prendi i cavi piazzolo me li fa prendere i cavi ma non è fatti mi sa pure a me mi sa che devo spingere la macchina eh no piazzolo me li fa prendere guarda vedi? mi fa un cazzo ci manca qualcosa devi cortinarti col braccio cioè nel senso che vuol dire? dovrà essere aspetta ah ma così ha capito un cazzo comunque ma la cosa più scandalosa sai cos'è? è che in 50 tiri di feri di cavallo non mi hai neanche superato non ho messo uno non ho messo uno forse o due spingere la macchina vieni qua vieni qua vieni 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 mi sa che dobbiamo spingere la macchina se mi guardi così mi innamoro nel 1 di cavi della batteria va solo caricata aspetta allora mi sa che dobbiamo spingere la macchina vieni un po' vedete l'altra parte no no prova prova no ma da un cazzo uno di ah uno deve andare dietro mi sa deve andare dietro va dietro ok l'altro lato guidatore effettivamente ha senso giù dai ma perché? non va? no ma come no? ma si ti giuro no ma come mai è rimasto attaccato questo? non è che si è buggato oddio però è vero e guarda sei rimasto attaccato questo eh perché? no no eh io bago tutti i giochi riesco a bagare qualsiasi cosa cioè l'hai riparata l'altra cosa? si si è tutto riparato ripara il furgone dice è tutto riparato però vedi mi fa andare ma perché si baga questa merda? oh it's not gonna work eh non funzionerà ho capito non funzionerà però mi fa vedere là vedi bisogna andare là alcuni hanno lamentato questo bug dai sul serio vabbè partiamo dal checkpoint dai riavvi al checkpoint sì il problema è dov'è il checkpoint? che è? dai ragazzi ci siamo due secondi ci siamo due ci 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 non dai è fatta è fatta è fatta vai accompagnami sopra è fatta 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 vai questo giro ti appizzi tu come si dice qua va bene via fa speedrun si dovete spingere la batteria gentilita va solo caricato si sarà pagato ragazzi quindi potete mostrare qua sei due anni mi chiedo quando troveranno la batteria quei due sento gli anni passare prima che mi aggiustino a cercare una batteria in a way out con la stessa urgenza di una lumaca che attraversa l'autostrada forse prima che Codomo e Curecom la trovino i furgoni saranno diventati obsoleti e voleranno ma non temere perché anche se il tempo sembra fermo lì un Ford F-150 non si tira indietro davanti a nulla costruito Ford Top ma che è la pubblicità della mia madre ma che sembra cosa è me l'hanno mandato perché ce l'ho a Tanja oddio ma io lo devo impostare sto coso ma com'è una hit è figo sì è mica uno sponsor e allora prendi la barra dai la barra allora dai hai fatto questa questa voce questa cosa tipo mi padre quando mi chiedete fare cose che non me sbrigo allora dai prendi la barra prendi allora calma che va a croce aspetta diciamo qua ok la ruota lì la prendo vabbè quindi ok che devo fare sollevo lo sollevo lo sollevo spesso tutto l'auto ok allora monta la ruota ok vai fa spessore vai perfetto vai monto ruota che non mi fa fare perfetto perché me l'ha lasciata perché me l'ha lasciato perché l'ho lasciato è normale è normale è normale ah vedi che ti fa sollevare ferma però oddio vai 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 non ci bisogna non c'è bisogno lo spessore è accanto dopo la volta avendo giustante sposta l'auto vabbè dopo si faccio sto coso della ruota e poi sposto il ok eh attenzione perché può essere che si sia bagato da qua eh ok aspetta sollevo eh prova ok sollevo vai ok oh hai visto che sarà bagato cristo dio chi è chi è il padre è mandato mi prego e comunque si era bagato perché tu avevi tolto il legno ti dava la x per togliere il legno senza che io alzassi perché li devi che è successo eh no zi ma la benzina dov'è là sotto perché li devi perché hanno mandato una cosa con tanja su di te ah ok come su di me che senti su di me c'era Spongebob che leccava la tua telecamera mandate io la beve oh guarda sto cazzo de gatto cazzo è pazzissima è matta in culo che è cazzo grazie mille no scusa hanno regalato delle sab grazie luca e grazie cusuna ma no solo perché avete leccato nervi grazie leccate come hanno leccato leccate leccate lo più spesso se dovete regalare i sab sì vabbè dopo mi vado a recuperare il voto sì sono troppo curiosi che cazzo è successo fate la clip e mandatela dai grazie cusuna grazie tesoro come stai benvenuta ben arrivato ok vai oh ma ci sarete al Torino Comics come? al Torino Comics ci sarete? io? e tutti pure tu che ne so qualcuno no codo 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 calma o a Romix anche succede? meno male si sarà buggata come sarà buggata? meno male meno male meno male calma 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 e dicevi più che altro non so come venire dovevi venire come come c'è come persona cristiana normale che sale vabbè come un sacco di volte naturalmente poi non so poi non so è pieno che state parte vai allora tu vai là ok io spingo da qua spingere ora spingi provando avanti perché non va provando avanti aspetta spingi io vado dietro ma scusco perché ma bene vedi l'avevo detto e funzionava meglio così scusa ma occhio perché adesso c'è la discesa ma mazzo oddio si è messa proprio a pennello ottimo si è messa a pennello attenzione ma che sto parlando e metti sti cazzo dei cavi grazie grazie baby vai guardiamo via scossa e moro scusami devo star fare la macchina mica tre quarti due ore di stream solamente le sta stronzata ok ha funzionato lo struttare ripartito comunque adesso ma soprattutto dove è un altro 3% del gioco è andato lontano come come ma che cazzo ma perché ho fatto ma questi passati dovevamo ammazzare a voi e ti dobbiamo sgozzare i bastardoni ci sparano mi hanno detto una cosa che che cosa che cosa ma no ma che cazzo spara all'aria questo attenzione ma non mi fai spara mi fai ammazzare eh Kodo mi sa che devi sparare te no no devo guidare io il king il king che cosa che hanno detto non ho capito Kodo non ha capito hanno detto che hai detto io pensavo ti fossi buggato cioè io sì che ho detto ah ma mi ha detto che adesso dovrei sparare no eh sì eh sì eh sì eh sì senti Leo così caprai devo guidare io il donna oddio 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 ma vai troppo via vai troppo veloce vai oddio ho capito ma stanno scappando io mio oh sei andato tutti a casa oh aspetta devo ricaricare aspetta che merda oddio 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 e se ne va oddio devo caricare devo caricare devo caricare ok abbiamo preso minchia ci siamo veramente pregiudicati totali ora oddio dove cazzo vai oddio sparata a quella fianco no mamma mia ragazzi che mira libera mi fai ammazza oddio oddio grazie alessandro via oddio dove è pezzo ho capito ragazzi e vabbè quello che sta più a fuoco la macchina ok è andato ma comunque è un po' stupista questa polizia è un po' stupida dio mio dio mio dio mio dio mio mi sto ammazzando dio mio ce la facciamo eccola è esplosa oddio ho preso quello un innocente oddio che cazzo le macchine hanno questi scusami non capire più i furgoni ma come facciamo non morire esplodere incredibile volo vabbè 700 macchine ma che roba quanto miniatura a questa macchina che cazzo è la nuova speedy addio cristo non ti ammazzano non ti ammazzano ci siamo ci siamo porca puttana no va bene ciao 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 io non mi fa mi fa sparare perché oddio che fa no che cazzo è veramente un film di tarantino no pure il filo è spinato è spinato no vabbè americana aveva già sparato 7 anni cazzo ma va tu allora ma cazzi no 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 allora ancora messi in calibre ma non ci capisco un cazzo vede ancora il vrb in che viva la canoa la canoa la canoa ma cazzo si fa aiuto vinto vinto si little game no madonna cristo a via e avendo comunque una stronzata cioè il furgone letteralmente non siete neanche un terzo del gioco forse si goda sbirri oddio che devo fare oddio no tuoi testa tuoi testa ok uno no rimane rimane ok cil dobbiamo che va di molto sinistra che stiamo per andare a ammazzarci devi girare devi girare devi vabbè una parola lo sapevo è benissimo scusa dai 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 gira ok piano piano dobbiamo fare la dritta esatto ok hai visto è molto rilassante ancora ancora sinistra sinistra o destra destra cristo cristo sinistra sinistra no addirizza un po pago pago di nuovo di più va bene però va bene siamo vivi ancora resistenza voglio vedere dai che una bottarella va bene scusami non è resistenza sinistra 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 xd ecco ferma 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 cosa sto andando ma è un fallimento ma per ora aiuto aiuto siamo al contrario ma siamo si è pagato ma tu lo vedi come si è pagato siamo fermi nell'acqua tu sei scomparso tra l'altro non scomparsi no regalo giuro vi giuro sono solo dentro l'acqua non mi fa muovere ok si è sbagliato si è pagato no ma sin secolare questa ma che sto vedendo ma vai cosa mai mai cosa perché non si vede più un nervi non so non ti vedi più non so perché no ma da quanto ora esatto gira 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 oddio mio merda meglio mio dio mio di gira ok sono ragazzini per i tuoi contrarie devi dirigere tu no non siamo ancora morti quello che tutto pagato ragazzi è aggiunto fatto cosa vedi la bacca si si sbaglia ma verrà male male ma la mia c ok no piano piano cazzo dura molto dura no 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 scusami ma perché non ci sei più aspetta metti pausa ma non funziona con la pausa porco due mesi da conto mannaggia la pura e ciao metti di mettere dalla stessa parte mia quando sono le curve è realmente la barca è rotta ora non ricominciare il ciccil cicilla quando c'è una curva ripita così devi mettersi alla ma la curva quella incredibile ok tipo in questo caso sono morti perfetto ok ok vabbè oddio 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 gira giro 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 che log 0 4,2 no incredibile non so come terrifici non lo so non lo so veramente non lo so no si è capottato chiedo ferma un po per presto di sopra andrà a morire vabbè non è ferma perché sta guardando ragazzi merda dio mio che aiuta ma cazzo faccio aiutati niente 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 aiuto cazzo tutto si spacca cristo dio cazzo non penso sia possibile ti proprio perché cazzo veramente non ci sei non capisco non capisco perché non ci sei c'è non oddio non ci sono ora sei tornato ma ogni tanto se ne vai mamma mia devo respirare calma mi stavo sentendo male vi giuro non riuscivo più a prendere fiato non riuscivo più a respirare ma che cosa succede ora la faccio vi giuro cosa va quando era contato senza vita parlo di quello che dobbiamo ammazzare che faccia sti cazzi che non siamo neanche un terzo dal gioco meglio dureranno più stream era it ma quant'altro è il gioco e dite eh non lo so che cazzo di harvey avevamo fatto un grosso colpo ah ma tu ero un rapinatore ah giusto si si orro del diamante è la kiwi ah ok la kiwi oh attenzione è successo con te con harvey mi sa si ah no con me ah no con te con te con te con me si questo gioco è un film comunque eh si molto figo comunque questo è quello mi sa che è lui si ah ma lui è lui harvey già era il mio compagno di che fa e invece ma no eh l'hanculato ah è il suo fratello questo è il mi piace di fare un business con voi ragazzi ah no no oh catruia what the fuck are you doing give me the fucking case Leo hand it over now ammazza un colpo in testa che cazzo è il cecchino it's nothing personal it's just business give me the briefcase ma che sto gioco a far così oh madonna no vabbè già tanto sono l'ammazzato infatti eccoci oddio ah ecco l'anculato eccoci Dai, andiamo a prendere il suo stronzo? Eh sì Una famiglia? Qualcuno ha detto famiglia? Andiamo a cercare il Ray Andiamo a cercare il Ray Ma devo assicurare che la mia famiglia è sicura Si baciano e finisce il gioco Sarebbe tipo, penso, uno dei giochi migliori che abbia mai giocato Dove cazzo hanno? Mi tocca c'è il castore Scusami, la possono... Ma questa è la moglie di... Io lo chiamo Michael perché mi sembra Michael di GTA Quello che ho io Ma... Questa è la moglie di lui? Di mia moglie, diciamo Dici? O è la mia? Merda, vero Aspetta Ah no, è la tua, mi sa No, è la mia, la tua era diversa Era incinta, non era incinta Eh sì No, è la moglie di codo La moglie di codo Eccoci Fuggitivi Ah beh, lei mi sa però che... Ha partorito il bimbo è nato così grande Ah oh sì, c'è un altro sbalzo nel futuro Ti portai i sordi? Ah il bambino sa che non sapeva che il padre fosse in carcere per questa attività E la madonna Nel fanodrofi si sono conosciuti Merda, non c'è un po' di questo Ma allora... Allora... Ma allora... Eh che... Che... Non be I barely remember them Besides I was fortunate enough to have Linda Merzano Drovio, ha 5 anni Tutto molto carino, cioè romantico Ma che è? E mo? Come dove cazzo siamo? Giusto per la qualità sono il 22 e 48, tutto ciò avete guidato un furgone e una barca Verissimo Ah sta cercando la moglie Mamma mia C'è tutto quello spezzone da prendere e mettere tutti i tocchi per l'intero 10 minuti di tocchi Ok Stiamo a cercare il quattiere Ma questo? Ok Voglio trovare la tua famiglia Oddio Oh C'è un cazzo degli altri Il marido è un breacone, ha cacciato fuori, guardalo Ha cacciato di casa Male, frate, male, male Mi finisci con te di entrare Di qua? Qui c'è il vecchio bacucco di prima Là si stanno staccando un barbecue Ma cucinano la bambina, la mettono al lato Perché luci di Natale? Perché luci di Natale? Ma che fa? Eh luci di Stranger Things Ma chi è? Sembra ancazzata, signora Ma che cazzo di vita che fanno questi? L'ho visto? Non so chi sia O di cosa ha fatto? Aspetta Mi tradisce Non c'è credo Sì O più ma sai che forse è quello che è abbattuto Il fatto di casa quella No Sì però così vicino Appunto C'è nel senso Sei un coglione Vabbè Ma Ok Mi sembra potessi sedermi Boh Della no Scusa ma un attimo Trova la famiglia di Leo Oddio Non ci credo Ma ti posso spingere seriamente? Non ci credo No no tu devi andare dall'altra parte Te prego Ma come? Dimmi che si può fare Ma siamo due Ma che fanno? No Come no? No è impossibile Si può fare per forza Come si può fare per forza? Sai che non si può fare? Ma come no? Dai No ma è impossibile E qua? Guarda il fatto è che non si muovono però vabbè Che merda Ma che c'è la metà fa la X allora Oddio questo Da Ma ci è rimasto di merda Di qua c'è un'officina Cars Non ti nuovo Dovete premere assieme E non l'abbiamo fatto No 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 Non funziona regà Ma chi è? Scusa In che senso trova la tua famiglia Scusa Non sai tu dove la tua famiglia Chi te lo deve sapere Eh ma magari Ne so Magari Come gioca baseball Sì Non è vero Vieni qua Davvero? Sì Ti lancio la palla Aspetta Di questa pallina Sì Inizia a battere Vai Inizia a battere Ma in che No regà Faccio schifo a sta roba io Oh Oh Mi sono da tre cuffie Aspetta Oh Merda Sicoda Oh Ragazzi Ma è fortissima Oh Questa in teoria Dove essere nullo Ragazzi Mamma mia Mamma mia Fuori campo Ragazzi Oh Mamma mia Questo era bello Ah Ah Troppo Eh Oh bello Questo Ragazzi Si vuole Ma Come ho 23 Male Buonino Nino Basta Che figata Con questo gioco C'è un botte Dei minigiochi Eh si Qua c'è Qua c'è Qua c'è Qua c'è Non ce fanno Di qua neanche Bisogna andare di qua Madonna ma che sei Favelas C'è Eh appunto Dove cazzo vivi Ma cosa non l'inizio Ma questo è proprio un pezzo De merda Ah ma sono all'inizio io qua Sono tornato all'inizio E mi aiuti Te porto da bere Ciao Buonotte L'alcol Dove lo prendo l'alcol Eh dove cazzo lo trovo l'alcol Ma allora vattene affanculo Bregone de merda Magari No Qua dentro Chi è E dell'alcol Tu sembri uno che stia intendo di auto Da qua siamo arrivati Potrei avere un lavoro per te Ti interessa Ma noi dobbiamo trovare una famiglia Stiamo cioè veramente A fa tutto Tranne quello Di formire delle auto La paga è buona Ma fate Ma io sono letteralmente Un evaso di carcere Vai via Eh bisogna trovare l'alcol Forse sai Per darlo a quello Può essere Ah ma di qua Ah ma di qua Ah vedi qua Di qua Ah da l'altra parte Ah Eccolo là Trovato 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 Come fa a sapere come è suo figlio Sono un uomo di molesti Eh beh sti cazzo Ormai Dobbiamo semplicemente andare Grazie Riley Aiutami E Leo E Leo Grazie babe Grazie Oh ma fuone 64 Oh cazzo Cazzo ma fuone Oh cazzo Oh merda Giusto giusto Scrivono Lestralmente Quando C'è mazza Che cazzo Di timing Ma poveriggio signora Tutto bene qui Che volete Qualche domanda Si mi dispiace Pensa essere brava A baseball In un gioco Che non parla di baseball Oh Stronzi Buon che avete parlato Con tutta quella gente Vi snicciano tutti No 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 Qua sono Davvero Sono bravi Sono bravi Sono tutti di strada Questi Non ci collaborano Con le guardie Che guardie Ok Che guardie Addirittura Ah uno Così Un maschio a stampo Così random Ma che è L'avete data Da sei mesi E lui è weirdo Vedi Lui è tutto così E lui è weirdo No Ma che fa Ma è weirdo Ma scappa La moglie di Cotto La moglie di Cotto La famosissima moglie di Cotto È solo un po' arrabbiato Sì ma io che faccio Il palo faccio Che cazzo sei Che cazzo sei Ma ti immagini arrivava A dire Mamma ma lui chi è E' tuo padre Ah non era quello che era venuto ieri Ai 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 Bene Sì sì ma io che devo fare Ma faccio il palo Oh mio Dio Mi dobbiamo stare a collasso Il ragazzino Che coglioni Ma dai il tuo figlio Si cazzi Ma come si cazzi Ma dai Ma non lo avete dato tantissimo Mamma mia Che faccio Scusami E tu vai Leggi il moccolo Posso entrare? Permesso Lasciarti soli Scusami Che cazzo faccio Tutte lavoriamo Potresti essere d'aiuto Riguardo giù la moglie Perché Ah mi dà dei lavori Adirittura Ehi Stagano Ragazzi Ti fai male Ma mamma mia È proprio un coglione È proprio il figlio suo Questo guarda Gioca a fraccette Addirittura Ha scappato Da un gatto Ma che è? Non è andata bene Non è andata bene Ma su che cazzo Stai facendo Scusami Diplo venti Sì Niente vabbè Eh dobbiamo andare a prendere la chiave ingresso A questa di qua La tua moglie Vai Erano Le tramite Sesse età Adesso C'è Non è passato niente Ecco qua signora Grazie Ti va di mettere in moto Adesso stare lontano da lui Ma sto corteggiando tua moglie Ma a metà che te devo menà Meccanico Tu ziti di posteriore Ti ho raggiunto Ti chiami l'inglese Madonna Che cazzo è Senti io ho premuto tutto Che cazzo è C'era una ciminiera da dietro Madonna A cosa te sta sgasata Il mondo finirà cento anni prima Calcola E quindi C'è il finale dove prestiamo il figlio random Vorrei Che c'è qua Dove vai? Eh sto inseguendo questo coglione di mio figlio Scusa ma io cosa faccio? Devo giocare seriamente a freccette Devo giocare a freccette Non lo so Posso pure sedare addirittura Posso fumare sta sigaretta? Mi posso Inche di E vabbè Sto ricazzo Le pizze però Dai Guarda come una cillo Stai meglio di me Calcola Figuro Vai da codo E non ci posso andare Ma la cillo io Nel tuo cillo Eh non è Ok qua Ho detto la cenere Smoking simulator Stai a favore Ma come sta siga? Oh mio Dio Mo vuole il martello Uè Sto a giustare il cartellino di merda al figlio Ma come ripare il cartello? Ma che significa? La prima si è attiva ho finito Va a giocare a freccette E si vada a fare il ricordo mondiale Il cartello messicano Ah tu praticamente C'è praticamente tu che fai Ah beh Aggiusti il suo cartello Quindi adesso siete amici? Come funziona? Non lo so Guarda Ragazzi Il tipo 20 qual è? Questo di qua È questo? Eh Sì Tipo 20 Troppo forte Qua sei Stai rovinando un momento di Niente È variato Toshizam Grazie mille Oh sì No Scusate Che puttana Se tu gli riparti Quello di vuole morto Di ripare il cartello Perché Quando gli fa comodo Di Saluta Oh Che carino Adesso andiamo A sparare In faccia Non è vero Oh no ti prego Non mi dire Non mi dire No Sì mi fomento Fermi Mi fate giocare a basket? No non credo No tu non puoi giocare Non sei nostro amico No fratele Dobbiamo giocare Dobbiamo giocare a basket Ti distruggo Ti disintegro Vincerà lui Dice Oh mio codo Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Siamo contro Ti distruggo No vabbè Ma che fa Ma lo disintegro Ma mi sta palla Coglione Ma che cazzo Ancora 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 Ma fai giocare mio figlio Ma che cazzo fai Se ne va Se ne va Con la palla Se ne va Se ne va Ah c'è il canestro qua Posso D'altra parte Se ne va Lo dribla Se ne va Lo prende Lo schiaccia Il figlio Non sta giocando Ancora una partita Borello Vincent Facciami la palla Dammi sta palla Coglione Che struzzo Di merda Ha un centimetro Ma faccia bloccare Ma tra robata Ah lo devo fare io Ma scusami Mi hai più il quadro Sono chiara Buonasera 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 E bravo L'ho distrutto Ma che fa Va a scopare Con la moglie Un attimo Poi ritorna Vabbè ci sta Effettivamente Ehi Sì ma non fammi vedere Fammi giocare col figlio Ma posso però No lo distruggo Ma che fa il figlio? Ma mi sta seriamente marcando il figlio? Ma che fa? Boom Un reale Un reale qua Un reale qua Un reale qua Mamma mia E' scarso Cioè, veramente io sto andando a trombare con la moglie E questo sto giocando a basket, non ci credo Oh mio Dio Cioè, è attualmente incredibile No, ragazzi Vabbè, mi copro gli occhi, scusami Ma che fanno? Devo andare a copolare, che devono fare? Non lo so Se è stato schiacciato un'altra volta, niente, ragazzi By the way, do you still have that piece? I do È ancora quel ferro Unchia Con lei comunque è un point Poi sembra così brava, pulita, invece C'è arpezzone dentro Mi ha visto che pesa 10 kg, che cazzo ci deve fa Ciao, non c'ho Lei c'ha le palle, che c'ha le palle in una relazione Eccoci Eccoci Oddio E io che faccio spio? Vabbè ci sta, sì, da 20 anni che sta mancando Non guardare Amico mio Eh, non guardare Timmi, come che si chiama lui? Ah, vabbè Bacetto Eh, ben fatto Già fatto, hai visto? Dura comunque più di me La prossima volta, promesso Forse, abbraccimi adesso Una grande prestazione Ok Ho capito, ma Facce che c'hanno tutti e due Un po' triste Ovviamente Eccoci qua Dove siamo? Non lo so Perché c'è stato sto timeskip incredibile? Dove siamo? Non c'ho detto Ma proprio per esempio C'è letteralmente L'autobus Ma ok, il rei ci siamo ricercati Palestra è la città di mafia, minchia, è vero? Oddio, è vero, mafia 3 Sì, comunque Sembra un botto Un botto mafia Sta a pegarmo, però Minaccia No, zi, si bleffa Bleffiamo? Sì, dai Siamo due controllori 100-100 Se io dici un gioco di merda Scusa di merda Che scusa di merda Che coglione è lui Picchè altro Pure i cosi ci ha fornito Ci stavano lì due ilmetti Proprio solo per noi Stavano aspettando Siamo in un cantiere Il tuo questo Ma Che cazzo dirano? Vabbè Vedi se mi va a aprire il bagno Non penso Ah, posso annullare quando dico io? Quindi poteva essere ancora una bella cagata Niente Finito Allora Aspetta, devo andare in bagno Ti sei voluto in bagno? Non fa tempo vado Ispettore vestito con camicetta verde Vabbè Sono tipo i poliziotti in borghese Ok, fatto Wow Allora, di qua Distruggi codo a braccio di ferro Ma è cazzo dita? C'è braccio di ferro? Dove? Vabbè Deve star vecchio? Dove? Al cantiere, dici? Ci sta Non si è lavato le mani Tipico Ma serve parlare con sti coglioni? Ma che ne so Cosa sta grattando il culo? Che fa? Che ti prende? Ma che cazzo me ne foda? Ma muori Codo 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 di ferro Ma che bisogna fare? E bu Ma Vieni qua Dai eh Ti spacco Metti sto braccio va E di qua 3 2 1 Ah Ma così? Capita che stiamo qua 3 ore stiamo? Oh Oh Per me è molto più difficile Perché? Ma è il cazzo È perché è il cazzo io Il cazzo è più difficile È più facile cortato Io Cristo Non muore Sì You can handle it You can handle it Ripando qui È più facile cortato Si col pollice Non è più di più 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 Non diciamo puttanate Il cazzo è questo È molto più difficile Via entriamo Lo stai Ti ha vinto io Cazzo stai aspettando È imbrogliato col tasto palese Ha messo il clicker con l'automatico Mi sa che è lui eh Come si chiama Roy? Ray? Ray? L'ha visto si è allenato Sì Ah così ha reagito Mamma mia ragazzi Oddio sono una colonna Oh mio Dio Ah guarda dove sei Ma che è inserita E' veramente una hit Ma due cazzo Vado questa ascensore E io Come va Eccolo il pezzo di merda Eccolo Io E mi sto uccidendo Nel frattempo Mi sto uccidendo Ma dove basta Guarda coglioni Portacci tua Dio mio C'ho io c'ho io Ma comunque non è Come ragazzi Oddio Oddio Ma è questo Venito a bastardo E che cazzo Attenzione che la dà Mamma mia ragazzi Ho anche troppo Eh ma buo Eh che cazzo Incredibile oh Guarda quanto cazzo Scappa Quel grillo Permesso Permesso Mi faccia passare Annalta Ad ascensore Ciao Le azioni Le fasi Le fasi Quelle Gli action Gli action Solamente fighe Assurde Ciao Storm Assassin's Creed L'ho andato No Addirittura ha cacciato A fare il ferro Il pezzone No Rimettitolo nel culo Guarda fuori Andato sto pazzo Vabbè forse è qua Perché di qua non c'è nulla Dici sta qua Non soffro di vertigini Però E' tipo come Abby Su della sua fast 2 Mamma mia Sì è bellissimo C'è la parte con Abby Che ha Il dettaglio assurdo Che ha le vertigini Quando guarda in basso C'è la telecamera Che trema Che hit Che giovane Mamma mia Sì Ci sono Ma ci sono quelli Seriamente seduti sulla trave Ma sono pazzi Guardali Dove stanno Aspetta mi sono persa Perché sta guardando Ma sono fogli Dritto No vabbè Vabbè Matti in culo Ma questa tanto Tipo la foto Quella famosa Sì sì Famosa Tipo Sì sì Oh pep Mi cazzo Si arriva Ma non è che posso prendere Una bottiglia E lanciarlo Uno di quelli Sai che hit Bello come la foto Diventa virale Che nascondio di merda Mamma mia Veramente uno sfigato Guarda Dai 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 Sono qua Sono qua Dai 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 Ma presto Ma che fanno Ciao Ma mi hai rotto il cazzo Eh vabbò Allora Ho un'idea Dimmi tutto Usiamo quella La gru Ma come la gru Ti devi appendere Vai vai Che puttanata Vai Fa più giù Fa più giù Più giù E non la prende così Ecco Vai Aspetta Aspetta Ah più in fondo Più in fondo Va vai Fa più su Fa più su No qua qua vai Va bene Dark grazie mille E' visto L'ascensore Boom Oh mio dio Perfetto Ma sto pezzo di merda Ti è andato Sì vabbè Ma io mi vengo qua No Non lo vedo nessuno Non lo vedo nessuno Non lo vedo nessuno Continuo guardando Il cazzo di merda Deve essere là All'alto Primo staccio Su Guarda che coglione Oh Capite sto destro Stupido idiota Faccio Sì Ma guarda dove cazzo Se siamo Affilati Ragazzi finiamo qua Ma dove va Ma dove Cazzo Mamma mia Lo spacco Ti giuro Lo spacco Ma che figo Ragazzi No vabbè comunque assurdo È veramente Ma che figo Guardi al cazzo No vabbè assurdo Regà Questa parte è allucinante Guarda lui Guarda lui È in trappola Il pezzo di merda Eh sì Chiudi puttana Madonna Ma no ma così No Mincia sto per trollare Ah sì eh Non me sei muovi Questo vado all'ora Sì ho chiamato Aia No È trollata L'hai trollata Non c'è grino No 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 lo trovate così così Aiaia Aiuto Aiutami E poi questo ci sta Mette dieci anni Arrivano Che sto per Tutto bugato Mamma mia ragazzi Comunque Ho l'ora che ansia Chiudi puttana Ma mia prendi Lo prendi Lo sto pezzo De merda Sì Vabbè Ciao Spider-Man Cristo Dio Guarda la cappottati Guarda che sacchi De patate Corri 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 Non questi Sembra Ottimo Guarda Ma che No Vabbè Io me ne ho da destra Eccolo No vabbè Assurda Questa parte Dove cazzo Doveva andare Assurdo Mamma mia Strai Vabbè Abbastanza facile Dico Sarebbe It Un gioco Tipo Detroit In copp Madonna Che roba bello Eccoci Ah Io sono interessato Hey Vincent I don't know About you But I see A lot of different things Here that could make This guy talk What do you say Guys come on Come stare a fare I cattivoni Guardali Mi too Il problema Sperbark Oh ma che io potevo Menare Mamma mia No calma Pinge o colpisci Minaccia Torcia Ma pezzo di merda Devi parlare Dove sta Eh dove sta Stronzo Cazzo Ottone Sì Dobbiamo Non lo so Non lo so Sì Sì Così Ancora Aspetta Oh ma che fanno Sato Oh minchia No volevo farlo io Questo Non va bene I versi Sono un po' strani Oddio poi minacciare La famiglia Mi sa A parte che io Vado a prendere La famiglia Non mi direi Vediamo adesso Se me lo dici Con questo Dai Testo di cazzo Pezzo di merda Dai Bruciato Boom Fatto Hittato E cos'è Questo Una spara chiodi Sono veramente scarsi Comunque a Fai interrogatoria Ma Vedi questo Una spara chiodi Dove cazzo Lo vuoi questo Che ha Devezzo di merda Suggino chieto Eh dai Ciao andrea Leo Ciao bellissimo Grazie mille Esatto Messico Ah ecco perché forse Siamo in aereo Perché è anche in Messico Minchia Serio Foto schiaccia Chiodo Lo lasciamo qua Ah si che cazzo sono in cura Tanto che viene a cercare Ma scusa Ma comunque Ma sotto non è legato Cioè si può alzare Infatti Cioè Che è un po' un coglione Sì Sì Ma non è in Messico Sì Eh io sono Sono informato Non so dove che l'ha preso Quel coso Però ok Ha trovato un grimaldello Così random Io le ho spaccava la macchina Forse non era la situazione Ci hanno sturniolato Il PC Ci hanno sturniolato il PC Ci hanno sturniolato il PC C'è un po' di idea Non mi dira Ciao rale Buonanotte Dobbiamo fare una rapina ma non so che sta oddio mo chissà che cazzo ce vanno a rapinare qualcosa ma per avere i soldi vanno a messi perché c'è meno a lira è per forza ah rapiniamo una pompa di benzina oh mio dio che squallidi senti ma vogliamo fermarci qui almeno così iniziamo col pepe la prossima dai già abbiamo un rapino adesso sta pompa di benzina easy way per rapina perché una pistola Vincent prende la pistola eh ma tu sei quello che fa le cose un pochino più pazze sai che vuoi fare tenere a te la pistola quasi quasi ti dici tu vai si al massimo spara un ostaggio ok ah spare dell'arte hai visto? ok inizia la rapina dove inizia la rapina? ah è vero che abbiamo scelto il tuo metodo quello di fare bordello mi sa eh sì alla fine abbiamo scelto di fare bordello per essere la civile perché avete pestato il tipo ah vero abbiamo pestato la madonna la signora la signora dice vabbè anche meno vabbè la madonna e che devo fare? ah 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 sto facendo attento a quel coglione là dietro eh eh merda devo sabotarmi se il telefono aspetta e non si muovere bravo devo controllare no ma c'è uno qua dovrebbe esserci una cassaforte dice che dovrebbe esserci una cassaforte ma che devo venire con te lasciamo questa qua al banco così? ma c'è chiama la c'è chiama tutti c'è chiama dovrebbe esserci una cassaforte uno è scappato l'hai lasciato scappare? eh no no non so non so mi lo faccio ma qui ecco qua hai controllato se dietro ha il fucile a pompa ogni volta in americano il fucile a pompa hai ragione che cazzo fa? il testo è aiutato oh devi stare attento a quella stronza sopra eh guarda la puttana guarda la puttana no no che cazzo fa? eh hai visto che aveva la pistola e la puttana? no già ride si è finita oh mio eh c'è la cassaforte chiusa ci serve la combinazione fatte la combinazione vai ottenere una combinazione ho i miei metto occhiali ho l'occhio e mi sbarbola non la conosco non voglio farti del male sembra intelligente ma se non te posso sparare in testa effettivamente? non lo so non credo ah è il basato non te la darò mai e lei è una persona intelligente 137 ok 137 vai non te la darò mai aveva detto il posso sparare? ha pure giusto cazzo eh lo sapevo io lo sapevo io lo sapevo io io lo sapevo ma qui ci sono 200 euro dentro a sto cosa ma che cazzo ci fanno? come 100 euro? c'hanno 200 euro qua dentro come 200 euro? c'hanno 2 c'hanno 2 c'hanno 2 no io non guido eh no io non guido eh no no ho guidato guido tu no io non guido no io non guido ancora un cazzo sono più poveri di noi oddio si esatto sono più poveri di noi ah ma mi sa che non dobbiamo scappare ma che cosa fa? lui sta guardando è una macchina accidentata ma che ti pare? grazie grazie per il video ho avuto un incidente frate ma hai letteralmente fatto una curva ti sei schiantato si infatti da solo vabbè non c'è un problema ma che sta parlando il pazzo? vedete abbiamo le armi? non le armi ma scusa 200 dollari ma erano proprio c'era scritto 200 dollari? non lo so ma era una mazzetta piccolissima di lei sembra che erano 200 dollari real ma vabbè ma saranno stati un 2000 euro e i dollari non lo so in che senso i sottotitoli? che è successo? si e no mi hanno scritto mai sottotitoli? perché sottotitoli? ci stanno spero io li vedo e da me si almeno non ci sono come non ci sono? non è che magari per sbagliare tagliato non si vede ma come non si vede? ma perdonami ah oddio aspetta no si no stanno a trollare secondo me ci sono le barre cinematografiche sopra è normale aspetta che devo aspetta aspetta oh dio perché non si vedono? no voi li vedete si è buggato? è questa? per che parla così questa cazzo ma ragazzi ma io li vedo ma com'è possibile? è tagliato male il gioco no già è proprio non è tagliato il gioco è fatto c'è così non ho tagliato nulla cosa è wrong with you you think I'm vending ice cream here? guarda I told you I don't do business with strangers and this guy he looks like a stranger to me do you have a problem with me? così vedete yeah I got a problem with you you have a problem with me? eh quanta te li cavai eh c'è la tizia che te stanno brutti a queste che era quella delle armi? ti stanno bruttina cifre te dice che non vuole far fare con gli sconosciuti e sei incazzato con me aspetta un attimo aspetta 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 che c'è un problema proprio con il ritaglio perché l'altra volta ho dovuto stimare un gioco del cazzo ok ah ho capito ok vai ci siamo vabbè me ne occupo io? no occupate no stile Vincent no c'è Aldi aspetta che cazzo è Vincent? ma Vincent sono io lascia che se ne occupi Leo se no vabbè occupatene te Nico bu a questo punto me ne occupo io vai seleziona pure tu? ma in che senso? la fa un sborone molto minacciosa lei comunque si è proprio una calamita dei schiaffi proprio questa risposta prendiamo quelle armi e ce ne andiamo c'è quel nato che fa provincia ma che è una mia enorme è una ciavatta proprio cioè guarda dimmi te se ho detto veramente 200 euro i soldi che hai muotato vabbè ma in America se ci stanno i tagli quelli non dirmi che posso scegliere l'arma eh me sa si armi ho poi scritto armi e attenzione o di si può scegliere aspetta come lancia le bottiglie no ma c'è il poligono ah già tu mi sa no eh scegli un'arma e prova ciao bellissimo hello baby si ma io non ho scelto un cazzo ho preso la prima spara mamma mia col pad sono veramente il pompa mi stessa che è il pompa mi il pompa mi ispia no prendi il pompa prendi il pompa no regaio mi sa che ho usato a sti erano a sti ero un porculo ma col pad so veramente handicapace ma cosa cazzo sta sparando voglio ma che posso sparate spara io volevo sparare secondo me esplodeva niente perché ti ispira il pompa eh mi piace ho di off stream oddio guardi si può spaccare tutto ma c'è oh guarda ma che è il rambo six bello ma che stai a fa infatti non capisco sei fatto ah possiamo darcene possiamo darcene quando vogliamo parti quando sei pronto prendi il mitra il pompa è troppo da vicino appunto vista no no si prende il pompa il mitra no 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 io non capisco ma faccia a cambiare arma oppure sai invece del pompa prendere no io vado dei cecchino e non mi seguo è un m14 questo è quello a colpo singolo completamente inutile è un fucile attivatore questo in teoria e questo è figo è diventato solo fortnite hai visto che figo però si è colpo singolo ma non vado di pompa io si lo dico un po' ma davvero eh si eh io che cazzo me vi ho qua c'è un thompson e cos'è la mia un hump si è questo quel classico mp si eh tra avrò un rinculo l'armi la cosa bella è che mi piace è che le armi non hanno completamente rinculo si te prego fammi vedere oh ora si seconda tassiera si meglio perché col pad era ingestibile no io non so capace col pad infatti quello non si toglie ah comunque il feeling è finissimo vabbè per me non ci possiamo andare eh allora se devo sparare chiappo subito la cosa l'm4 aspetta riguardo un attimo questo io come dentro al negozio ho capito sto a fare shopping quindi mi devi dare un attimo del tempo è una scelta che va presa sono molto sono molto deciso vabbè noi maschi siamo sempre così ogni volta vediamo il primo pollo di scarpe vediamo e le compriamo quindi allora a me stanno prendo questo no prendo questo mi piace di più bene possiamo andare via sì ma che è che cazzo avete mandato uno dog che balla ma siete normali uno dog che balla cazzo che tu non ce l'abbia sono guarda sono tentata di mandarti il link browser così li vedi pure tu grazie dragon è contagio eh io tangio l'altra volta volevo metterlo però visto che c'è il panico da fare ho detto aspetta calma non così tanto devi aggiungere un po' di roba lei comunque non è convinta ancora eh lei pensa che ci andiamo a morire mi sa stasera per niente proprio ma che vuole l'orologio mi dice alzati in piedi il messico con macchina il messico in macchina il viaggio di Aldo Giovanni e Giacomo con la super baracca ma che è grazie dragonone ma è lei che cazzo ci fa qua ultima che ci sta a fare la spia sta pezza di merda no non ci credo no non ci posso credere che lo fa no chiama quello mi sa no dici chiama quello che stanno a cercare noi si eh pezza di merda che figlia di puttana che figlia di puttana Harvey come si chiamava? ma abbiamo Harvey si ma io abbiamo pure lasciato i soldoni abbiamo lasciato gli dovevamo lasciare un pizzone e lasciare per lei per terra altro che i sordi Harvey lo sapevo che era buonasera lo sapevo cazzo lo sapevo che figlia di puttana sta rotando il chiave puttana maledetta sta sbuciona oddio ha sentito che le volevate le volevate sparare in una chiappa ma che sia tanto per giusto per me mare l'ho insegnato bene comunque questa è la virai oddio ma se caro ora ci ricolleghiamo con ci ricolleghiamo con il presente quando siamo nell'aereo oh merda no no è un campismo di merda non vedrà nascere suo figlio addio addio ciao no classico cliché che ora chiama suo suo eh no sono ready digli dove sei l'indirizzo che ansia quando fanno così te giuro guarda l'indirizzo ma non gli dice l'indirizzo ti immagino al telefono signora l'indirizzo sono l'indirizzo dove abita penso di essere travaglio presto ragazzo abiti signora l'indirizzo signora noi vediamo c'è sta manna a messico un elicottero ma c'è ma the calm before the storm ed è subito della stovassa due io bello però come la cabina telefona dalla cabina a mia moglie mi sa dice ancora le monete ma no da rubare le monete ma pure le monete tocca rubano a me che è pezzetto ho visto una edicola dall'altro lato acqua qua la niticola hai ricercato a chi puoi mai chiamare effettivamente ciao bellissimo mi puoi dare due due monetine per chiamare devi comprare qualcosa no non mi direi che è dubbio la moneta è quello ti prego ma poverino purello madonna ottimi riviste di qualità che tipo di riviste ah ma i soldi li abbiamo ma scusami ma e questo è un veterano ma che puttanata vai davanti alla coppia e te la danno ok ho le monetine io sto bullizzando un marbone il suo tetto beh donna le sigarette al senza tetto ma oddio l'or perché sigarette ho vari sorsi che ci stanno qua eh no non posso tagliere ragazzi mi avete preso il culo madonna regà ho fatto veramente bene ah seduta così ok ci vediamo in Messico mi cado mi cado il paesaggio dov'è che saranno questi ciao sarà buonasera e chiamo la mia moglie mi sa no ora dice eh ho partorito tu non sei qua sei un pezzo di merda ecco ma no mi sei chiamata la moglie ma hai cagato la moglie no no sto prendendo le cuffie oh mio dio ma come ring ring mother fucker ah gli ha detto che ha partorito e tu sei sparita totale eh beh quando le rompi le cuffie ti ho detto ma lì ma 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 dì l'ho creato tua figlia scusami ma sì non capisco perché questi davvero non lo so eh appunto dai no niente 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 eccoci 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 e ci ha mandato quello Harvey ammazzacce silenziatore pure c'è un lavoro defino lavoro defino proprio ok fine it's my wife porco 2 sì questo arriva e fare così random come corre ma più certo che mira de merda c'è un sicario scusa ma che cazzo di sicario è i pompa in itra scusa perdonami eh mi sa che vamo lasciati oh di odio abbiamo lasciati in macchina la mesa ma questo dentro un cinema barricadutto io ho pagato un sicario due le cinquanta ma mi è veramente sto spioccio cosa ah ok che mi devi portare tu ah ok oddio sto pezzo di merda sta arrivando vai 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 d'altra parte merda 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 sto cazzo vado vai vieni qua vieni qua vieni qua ma sta porta che cazzo è blindata a rieccoci qua che ventole sì veramente no occhio oddio madonna ma fa vomitare si va vomitare veramente peggio di corpoglia ecco vabbè non era difficile capirlo eh qua entrando mi spara vediamo adesso io ma che fa pinzette pusha ha pagato appunto 3 euro e 50 più buoni spesa probabile a questo ma mi piacerebbe sapere poi quante cazzo dei proiettili c'ha munizioni di caricatori non possiamo controllare il prossimo qui non possiamo controllare il prossimo qui vai vabbè 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 vincent vabbè la pistola ciao peggio di prima guardia la pistola eccoci no ok ma guardia la pistola eccoci qua strangolato una cosa addirittura ma che minchia è un elefante provi provi e sto apprimendo sto cazzo di tasto mi sta piattendo in nide ma è già morto ragazzi me l'hai svenuto non è morto io darei un colpo di pistola si manfree oggi è questo ma perdonami ma tre ore di 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 menata di lui che arriva spara fa di sicario e muore io un colpo in testa io lo sparare per il mio eh sì sì mi sa mai mica è vero e dirglielo mamma mia che nervo a quarto rito oh non penso che la moglie la voglia ancora forse non l'ha capito ancora esattino eccoci chi ha detto? è che non sembri molto felice ma è veramente complicato tra me e mia mamma guarda complicato o non devi andare a vedere un figlio cosa che succede tra te è ancora un figlio giusto giusto io so certo ovviamente sono tu sai che sono sì guarda hai avuto questo avuto non ti hai avuto l'ho ecco ecco cosa faremo andiamo all'ospedale la mamma è sicura il padre incerto mi sembra un po to match effettivamente il padre incerto almeno hai visto questo qua è tipo quasi il presente eh ok 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 sta parlando eccoci qua come sta a fare Maria De Filippi oh no vuole mettere la buona parola carol is love my life we've always wanted to have a child tried free years every time we failed was like a part of his died hanno carcerato i personaggi sono fatti a culo perché a culo ma un frio sono quello a sinistra perché non è calma a sinistra quindi automaticamente la parte emotiva ma perché lui era finito in prigione non me lo ricordo e sono finito in prigione e lui l'ho appena spiegato merda no perché per quale motivazioni e lui adesso che ha detto e questo è il motivo per il perché sono in cella ha detto no non ho detto ma non ho detto l'ultimo sottotitolo come no scusa l'ultimo sottotitolo era ed è questo il motivo del perché sono in cella non ha detto per il motivo comunque che cosa ha detto rega trova carol che questo abbastanza bene dai allora materniti e le vedo era se noi molte gazzia ciao ciao giu no codo veni subito qua oh mio dio no chiave a rinnelli come stai uno che forza 4 a secoli però non ci gioco da secoli aiuto io non ci ho mai giocato così seriamente sinceramente non siamo giocato ci gioco si vabbè niente di che eeeh vabbè chill 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 ma non ha troppo verso in alto te lo dico eh mi vuole vincolare non ci credo 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 ma ma che e te stai a inventa no che tu che avevi visto la cosa che cosa non ha visto potevi vincere tre quarti d'ora fa ma davvero no davvero oh ma io c'ho la febbre eh guarda eh che ora allora che cos'è qua fammi vedere ma davvero volevo davvero potevo vincere non te ne hai neanche accorto non so se sto peggio io o te eh non mi sono accorto anche io appunto eeeh no qui lo fa eeeh qui lo fa micchia oh ma è culato eh no 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 nell'angolo potevo fare ma non è vero ma davvero ma non è vero e però come meglio che volvi in high school ma non serve due secondi cioè ci sta adesso la ley io non dice nulla io ho due secondi video ma io non sto tanto non ne ho non sto mica valendo non sto ne ho capito- Ho capito ma due secondi ah mio deo vabbè for the means io invece ti faccio la giocata no qui mi fai il colpaccio qua pure senti vabbè mo che è sta storia mi vuoi inculare mi vuoi mi vuoi fare la mossaccia perché se ti metto questo qua tu fai 4 se ti hai messo questo qua tu fai 4 e se te lo mettessi qua devi stare calmo però mi sento che mi sta per in culà però c'è una situazione un po' di merda potevo vincere un quarto della fama ma lo so situazione di merda secondo me sta cosa finisce un pareggio sai merda mai metterlo qua come on me come on me come on me no tu per salire devi salire per forza eh ma qua eh vedi ma non ha senso se per il meno se per il meno li faccio qua maria di dio partita forza 4 più lunga del secolo mai vista una è la finale questa vabbè eh non devo cedere per me che sono tutti concentrati su quella cosa lì l'attenzione si tagliava col naso del PG allora devi stare molto calmo devi stare molto molto calmo con questi tre in fila così ho riperso di nuovo cioè io credo potevo far 4 no potevo far 4 ma dove era ma non è vero ma qui lo era ma non è vero c'era già quello ma quale mi stavo dicendo che potevo rivincere raga ma che ma poi a me non ho capito dove terza fila ma non è vero diagonale ma 4 bisogna farne raga pezzo di merda in diagonale ho capito ragazzi non diventate mai streamer guardate i risultati ah è vero cazzo avete ragione vincevo io perché pensavo dico vabbè se lo metto qua poi lui vince invece ce ne avevo fatti 4 vabbè sì comunque guarda dovrei farti vincere solo per lo schifo che ho fatto io a non vincere prima gil 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 allora qua ce n'hai 3 qua ce n'hai 3 3 perché stai ridendo no dove che rido non è vero non sto ridendo ridemi prima no no c'è qualcosa che mi devi dire c'è un segreto no assolutamente ma perché guardi me che ho fatto non ho capito ma racconti giusta io non ho le facoltà cognitive ok boh metto qua basta non lo so mi sono tutto al cazzo ma perché hai deciso di fare questa cosa euro ha vinto ma guarda sono contenta sono contenta mi merito di perdere basta una chat per una delle partite più no basta 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 perché per un pin chat club in chat per la migliore giocata di forza 4 mesi è proprio bella è questo perché abbiamo perso tempo prima sera cazzo guarda posso dire la sincera verità ce lo meritiamo che ci prendono guarda sì 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 ce lo meritiamo eccoci mai assolutamente no ma che fa e lui è tipo quello impulsivo della comitiva capito oh vi ricordo che io ho la febbre c'ho il mar de gola andatevene un po' a fanculo ma come stai si è abbassata oddio eh sì ma so comunque rintronata a stecca cioè vedo tipo tutto distorto non lo so sì ma i ragazzi ne scuse perché ha perso a forza 4 gg no 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 non ho scuse sono una cogliona c'è poco da fare lo facciamo? per il membro lo mettiamo da po' no no perché lui non sa niente cioè ci avrebbe già detto qualcosa allora cominciamo lo cominciamo vai ma perché ha detto qualcosa di strano? ok ma vediamo non sa niente è un mostro un mostro grazie l'acca da culo è un piacere averti quattro a noi grazie l'acca da culo ma trova caro ma no ma ragazzi ma effettivamente guarda ma che madonna che pesante questo equilibrio no no ti prego oddio aspetta aspetta devo capire come si fa scusami ma che cazzo te l'eva devo tenere no eh niente comunque veramente c'è delle scene questo devo andare da moglie se mi metti a giocare a forza quattro a fare i coglioni sulla sede rotelle ma veramente cioè io non so cosa dire vado il mostro vado il mostro vado il mostro dai ma che cazzo vado il mostro la moglie che sta vedendo tutto dalla dalla stanza dal vero non so che poter signore che mostro basta può bastare 30 secondi si basta basta e niente a posto via ci immagino appunto questi che stanno c'è la moglie è un punto di morte loro che sarebbero seguite le condizioni ok se devo parlare con lei signorina o di bionda poi ti chiedi perché probabilmente si divorzeranno effettivamente capito esatto sta Stephen Hawking lore molto bella sto qua tu cazzo qua stai fatto come una pigna cazzo questo io ho un bocca con l'amichetto c'è ah ti immagino vattene via ti vuoi vedere Dio mio Vincent cosa stai qui e quindi è mia donna non ti permettere sai eh lo so l'ho visto sui giornali vabbè vabbè la trafarinculo dai eh punto la mano e congrats mi lasci solo con questa ora aiuto io vado a fare sgommate casse dell'otel da bambino che fa è bellissima sì in punto sai perché 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 ho detto via l'ho capito niente niente zio non te la voglio più ridare dai stia via pass via next sì sì ma c'è c'è quello che mi chiedo una volta che abbiamo ammazzato Harvey non è che cambiamo meglio appunto appunto il motivo il motivo è perché la cazzina sbierata io io nel frattempo sto a tirare i guardi a televisore appunto oddio non è che ci hanno seguito fino all'ospedale no oddio no ci hanno fatto una soffiata mi sa direi grazie al calzo stiamo giocando a forza 4 c'è zazzi grazie al riotto bellissimo eh sì è il momento giopero ok let's go non ho capito no shoot un hospital ah noi siamo nel cellulare giustamente no siamo divisi mi sa sono divisi no c'è sta bambina mi sa mi sa che lui esce dalla finestra comunque l'ospedale del merda e vai madonna ok mi sa che adesso oddio mio ma dove sale ma dovrebbe scendere eh bella merda eh no perché ma tu oddio oddio merda io ma siamo separati oh no tu stai vedendo me eh sì no io sto vedendo te ah eh ora ci sei tu ma oh ma che mi hai diviso così ma che figlio dai ma è bellissimo oddio 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 dove vanno dall'altra parte ma dove cazzo vado ma giusto 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 seminati dove va ma perché mi devi mi va a testa mi va a testa figlio mi ha cazzotti non è vero ma mi ha diviso mai un ugnone a bere è una volta finissimo no non l'uccidere non l'uccidere ma madonna mia via 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 oddio mamma mia via 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 non so come ci siamo incontrati di nuovo ecco vai 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 oh no capa merda no sette un suo calace di rego no cosa è finita Ciao Davido Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, tranquilla Ma dove cazzo sto più che altro? Ma dove cazzo è? Dove devo finire? Ma che è? Dai, zio Piero! Madonna No, non ci credo che l'ha fatto No, vabbè, vabbè che è hit comunque questa roba, veramente No, i chirurgi, ma scusa, sto parlando così, random Proprio ben disinfettata questa Oddio, oh merda Certo, ci avremo questi condotti, eh? I chirurgi Io stavo a rifare Il chirurgo di fiducia Ti prego, vedo dove cazzo sono ora Ma veramente, è così? E ciao Che è hit secolare Oddio Oddio, guarda che visuale Perché è diventato? Oddio Non ci credo Ma è Sifu, ragazzi No, regà, mi sto male Ma è Sifu Mamma mia, regà, sto male È bellissimo Cioè Ma che questa è una hit? Oh, l'assunno! Oddio! Oddio, merda Vedete questo, strozzo cafone Vattene la pianta È un picchiature diventato È un picchiature diventato Eh vabbè, ti dai Che cazzo non v Mia, ti ho invento qua Ma questa è una donna Oh Arichiappa sta cosa un po' Oh no Vabbè senti È un fenomeno Questo è uno squadrone di polizia Allenato Non lo so All'asilo nido Ma appunto Mio dio No Brutta storia Non mi dire No please Ma no No Eh ma che passo adesso mi vede Eh non devi infatti No ho sbagliato Sono un coglione Che hai fatto? Beh non lo so Non so perché Avevo flashato l'estero girato No Inseguamente la dicopra 11 No no si stacco È proprio da buttare Che schifo E' letteralmente fogna Mamma mia che merda Che schifo Vedi che sta girando Oh Oh c'è una scala Guarda che culo Guarda che culo No vabbè Ma Ma Sono a piano di sotto Sono Quanti ce ne sono No 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 Ma puoi sparare? Come sa De si Puoi sparare No fake Non ci credo Che puoi amazzare un po' Lì sotto Quali nelle balle? No non mi fa sparare Ho sparato Ma ti fa sparare sopra Eh si Eh non ti fa sparare a loro Giustamente Eh no Quanto cazzo Ce va la prima porta Buttalo Buttalo Di sotto Butto Sennò quello Ma poi mi piace che lui No Sì vabbè Dai Dai Assurdo Ma che fa? Ne va? Perché sono tutto serio? Merda Senti la Senti la Senti la Qua 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 dietro Qua dietro Siediti No 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 Buongiorno 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 Grazie mille Grazie mille Grazie mille No Sì ma infatti C'è veramente lui Messo seduto Con la stessa giacca Come fanno a riconoscermi Però vabbè Cioè potrebbe Dolly Essere la giacca Almeno Eccoci È finita? Merda Vabbè 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 L'ho letteralmente Visto in faccia Che puttana Vabbè Ci posso Stare Via Mi sa che puoi Non so Non farmi vedere Neanche da lei Ah ma con lei È vero Se spotta Corre Minch ma dove cazzo Si esce qua Odio quanto va E ne va a volare No No Vabbè Ma matto Un culo È molto Ma è molto Ma è possibile Che cazzo è Di gomma Eh però siamo qua Eh sì Vabbè Il caso vuole Farlo il lucetto Farlo il lucetto Farlo il lucetto No Sì Dai Oh Piace Matto un culo Sono matto un culo Grazie Eh ma mi devi La mano te Mesa Scriptato Come l'auto In che senso l'auto Dove devo sfondare Oh merda Mi sa che devo Inboccà così Mio Dio Devi fare Devi fare la giocata Qua Devi andare addosso E devi andare Sì Orco 2 mission impossible E che cazzo è E quindi Io gli devo togliere La pistola qua Totale Panicone Panicone Che succede Buonasera Snapperò Oddio va vai Sì Vabbè Sentete tutto Io capisco tutto La bella madonna Incredibile Ma ti hanno diraniato tre arti Mi hanno sparato ovunque Sono a groviera Nervoezze ti ha spicciato nell'acqua stanotte Probabile Giulio grazie mille Need for it Ma forse Stasera forse riusciamo a finirlo Può essere Davvero Siamo arrivati qua All'aeroplonino Buonasera Ciao Giudì Ah effettivamente è un po' domaccia Questo fatto è Questo cazzo è Ci vorrà un'altra live Dicono Un'altra live? Mh Sono tutte incazzate comunque Ciao Alex Piazzone Grazie per i due Kate Emily You know I always pay you good If you want to go to Mexico You have to pay me way more than good Odè Porrei Dove essere pagata Portaci lì Il doppio Mortaccio Dove un'altra rapina? Eh Un'altra e due forse Ah no no Ci porta in Mexico Poi la paghiamo Ok E se poi moriamo? Eh Stacca il cazzo Oh no Oh Ma è morto Chi è questo? Ma no Questo è quello del campiere Ah già Sì Ecco chi era Eh ma Verranno stompato Tempo due secondi Grazie E mi spara La shanda Spara Mentre C'è il drone? Oye Juan Dime jefe Necessitamos Más hombres Ya dale Quantos? Todos Todos Eh no E' bella per lui Ammazza Quanti brigatti li soiono? Ma dove gli ha sparato Ma non c'era Azz Tensione Eh si Siamo col coso Che è Blar Come si chiama? Chi è questa Emily? Non neanche chiedi Siamo pronti? Vabbè un po' trabiccolo Sto cosa Ma vabbè Ma che è? C'ho stata nevica No ragazzi Il giro Ma è domani Un aereo che va a preghiere Eh no perché È sambilistata Grazie mille Drone Oh Mary mi dispiace Merda Fai atterrare l'aereo Ah eh Paragatute Secondo me pure Paragatute sulle spalle Elexgo Ah si Capirei da solo come fare Ma in quale mondo E' però Stanno sempre più Ci si avvicinano sempre più Come amici Diciamo Ma che cazzo fa 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 Ma fa Ma cazzo è inciampata così Sì palese che il paragatuto non si aprirà subito Interrompi il flusso di carburante Prendi il giornale di bordo È la madonna Ma il flusso di carburante Dove essere Vabbè c'ho Ok Fatto Sgancia tubo benzina Penso io Ma ce l'ha fatto tu Giornale di bordo No Apri le porte dell'hangar Vieni qua Aspetta Apri le porte dell'hangar No Di nuovo Ti prego Io ti prego Ti scongiuro Sotto ne fa tempo Prendo il giornale di bordo Ah dai a Emily Ok Eh no però se due là Emily No zì Ci sono pure le traccette È finita Ma quanto cazzo si apre sto hangar Oh Ma che sta a fa' Ma che cazzo stai facendo Fermo ferma Ragazzo stai facendo Io Sì un attimo un attimo Giornale di bordo dove Vai uomo Poi ci finiamo dopo tre live Te credo Io mi so Una sciacquata Ma come Come le mani Vedi qua Vedi qua È stata molto Trovo Aspetta Dove vai Sono la Sistra In teoria Si spancano 100 kg Ma sto cazzo di cosa De bordo Dove starebbe Eh ce l'ho io Ce l'ho io Io lo dovrei Io Ah ce l'hai tu Alla brodera Sì No vabbè Ti ho raggiunto Una passata Dalla l'altra Dalla l'altra Ma che è Ma che cazzo è Oddio Una cosa effetto Tipo Ma perché io Ma sono un coglione Dalla Si va come fa Ma fa Thank you Ah 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 Dì 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 Ragazzi Non va avanti ragazzi Oddio Oddio Non è vero Non è vero Non è vero Si gode Guardate non va avanti Addaggia la puttana Oh Bello 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 Questa è veramente Orribile Oh 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 No Calma Ma non fai un cazzo Sei ferma E la valla di Vardellà Oh Ha parlato Ha parlato Niente Cristo Dio Oddio Oddio Niente Intancabile No Oh No Bello Ragazzi è fortissima Oh Ragazzi è fortissima Di goda Dei stazzetto Marco Di recupero Immagino quella che ci aspetta all'aereo Da barco Calma Ma non è possibile Ma non fai letteralmente un cazzo La palla di Vardellà Ma com'è possibile Oddio Devo scenare Oh Oh Ma sta fizzita Cristo Dio Sto giornale di bordo Ma che fa Ma che cazzo è Ma che stai facendo Ma l'hai preso il suo giornale di bordo o no Ah Entra nell'aereo Ma dove è andato Ma dove è andato Come on Vincent Get in La casetta di legno Ma dov'è Ah Niente Come on guys Get in the plane We're ready to go Comunque a parte Non mi so di destra la No infatti no Mi sa che ne abbiamo bisogno di un'altra Eh State sì Vabbè meglio guarda Perché dopo questo che cazzo di gioco c'è da giocare Non ha fatto un cazzo Io mi sto recuperando il Sto recuperando il Little Nightmare Madonna è bellissimo È bellissimo Fantastico Ma mo' esce Quello in cooperativa Eh infatti abbiamo Io infatti lo sto recuperando proprio per quello Eh bravo sì La prossima fate solo due cose È finita Sì Oh di la prossima quindi è La prossima è Dovrebbe essere decisiva Eh ma Sarà corta Eh non lo so Allora Se vuoi Stasera ci possiamo anche fermare le 11 Dato che io sto così con la gola Eh però va bene Se parlo meno è meglio Testerisate a squarciacola che sto a fare Domani mi sveglio Non c'è data Eh bella soluzione Che merda Ciao Manfrey Domani i conto senza voce Quindi adesso siamo attenzialmente nel presente Sì Esatto Silenzio Comunque solo secondo me coda qualcosa di Di Rose Villain Ma me lo dicono tipo tutti Te lo dicono? Sì un sacco di gente Eh perché è però vero un po' Cinque kg in meno magari Da me soccandro Qualcosa della Bertè Eh sì mi sa che uno di tu non si apre paracadute Occhio No te prego eh Ma Insieme? Con la manina? Oddio E mi sa di ronda Vabbè matto un culo Matto fracico Ma almeno mi hai detto come Bisogna fare Non lo so Ah beh Ah beh sono un esperto Ma che bello Ed è subito più bg cazzo Ah che non ti vuoi prendere Ah ci ho superato Oh ma dove cazzo vai? Ma vai impicchiata Ma come cazzo? Ma vai impicchiata Ma vai impicchiata E sto andando in picchiata Ma mi è squianto Com'è per le cadute? Ah no è ancora troppo presto No troppo presto Ecco qua Tu sei? Ho perso il pari cadute Avviciati Avviciati Dove cazzo sei? Qua 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 Avviciati a me No vabbè Non ci credo Non ci credo Ma che sto ponendo? Sta nuotando Eccomi Acchiappa a me No vabbè Non ci posso credere Non ci posso No mamma mia ragazzi No io non lo farò mai regà No no Non abbiamo più grande paura Madonna è Sa pure io A parte che soffrivi Mi sa accorta pure io Lo so Fa un po' Dipende cosa Esatto così Devo provare Ragazzi Ma siete pazzi? IRL così Io penso che si venirei probabilmente Nervosa non sbaglio Manca questa parte di Harvey Più il finale Volendo potreste fare la prossima volta Infatti mi sai Facciamo così Sì perché almeno Ci vediamo una live normale La prossima Si me lo dicono anche questo Solo una E ho capito Ma Ma ho tolato Piccolo padre Grazie tesoro L'altro lato Perché non mi sembra che stavano anche Posto 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 Mi stanno da schiantare contro la roccia Eh mi sa che si Ma sei aggrappata come un koala Minca Pesante La cosa di Tarigone è terribile Madonna No io non lo farò mai Perché un cazzo Perché tu vanno a trisca la vita Ma chi vede in cula Piuttosto no da fa un viaggio Mezza una salana Che so Ah dai stagli per morire Ma non sei morto Dai Picca troia Come è un cazzo Stiamo No ma vedi che adesso Abbiamo l'armi Adesso Eh mi sa che si può sparare un po' Ma già Sì Eh ma sai che cosa spara Appunto per questo si viene una volta sola Va Valerina ma tu sei pazza Bagi jumping Madonna Madonna No regà non fanno per me queste cose Poi sono molto paranoico Quindi gli ho detto che io Quindi automaticamente penso che la corda si spezza e muoio Più che caro vabbè Classicone Ma come parla ma perché parla così Non ci stanno fatti di marijuana Ho capito ma non penso che un fatto parla così So per carità Ma fo porco Abbiamo subito a sparare Ma così Ma come è morto scusa Aspetta fammi mettere la skill Ti bussciò Ti bussciò Fa col pompa di busscia Eh li devi bussciare per forza Vedete che apro le spalle Aia porca troia Eh non lo vedo Io vero Madonna Oh ti sto a far fare i tutti Ma non mi ha Il mio impeccabile signori Sono morti tutti Eh effettivamente io devo andare vicino al che è sciolto Eh sì Lontana è difficile Italia snipe Anche cammello che ha segnato Ok uno Due Mi sento nella base di grandi Quando devo sparare Prendo la tastiera E stavamo in bocca Stavamo in bocca in base Detta anche braccio d'oro Sembra un po' uncharted Dessa parte Ma in realtà un po' tutto Sembra uncharted Sì molto L'ambientazione pure è molto uncharted Della Poco Più treno Ah ma che è Un ciocchino sa Eh sì E io col pompo ci faccio nulla Eh no Ecco se ci avevamo magari Un pezzo di merda Ha preso? No Ha provato però Eh a me sì Rotola Devi rotola perché se no ti via Eh sì Mamma mia Ho già visti Che cazzo Si stavate proprio troppo uncharted Una cifra C'è Andrew Una parte finale di Bo Oh Oh Oddio Calmini eh Eh mi sa che qua Ah di questo può salire però Io mi fa salire a me Eh prima io Ok L'accuno mi spara però mi sa Ah no perché sono arrivato Cazzo Ma Dai che se L'acqua Figlio di puttana Oh dai 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 No devo stare il cecchino Non ci credo Vincent cover me Aspetta questo l'ho ammazzato Ok piccolo pezzo di merda Ci penso io a te Occhio occhio Oh merda Oh merda Oh merda Ma che ha preso Una Archiatroia Fantastico Una Va vai lì però Eh lo so Anto lo so Per fortuna No ho messo No 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 Fermo giù giù Boom Che cosa fa Oddio ho sbagliato Non lo vedo Non lo vedo E Ho diso Un po' di mostro Gioca da stia Non so che cazzo E da sti so Vabbè Anto Dipende da quando è che mi ha seguito Quando è che mi comincio a seguire Bellissima sta cosa Eh sì Stavolta è veramente molto bella Boom Boom Vabbè bellissimo Eh questo non lo vedo però Questo è tuo Un pezzo di merda Non esce fuori Eh Secondo questo Michael Jackson horror Oddio 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 Che cazzo Fai Madonna mia si muove in merda non fa sparare ma che mostro quella stessa devo sparare ok ma è bellissimo ragazzi da certi schiafi mio dio non ci credo sopra ci credo ma valerio grazie piccola grazie tesoro tv ho passato da su spetta maria al pad ad usualmente per sparare utilizzi sì sì perché veramente di giuro sono veramente incapace oddio devo andare io no che sta facendo il mio che lo scende riesce per tornata o eccoci ragazzo vai come cerco di salire a di qua perché ok insano oddio e non scendere di qualche lanciarte fa ma questo per la missione di un certo ed u4 cioè c'è una missione uguale identica missione nel senso la stessa identica location bello tomb raider no bella lanciate io lei o un bel 360 poi non parlate la partita è merito nulla eccoci no errore 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 forse dobbiamo andare a loro più safe invece andrà così a cazzo ora e beh io più caldo perché ho il pompa allora intanto vado qua a destra io io c'ho sto coglione ma scusami ma scusami mi aspetta 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 ti diverti o io credo non ci arrivo però no davvero no sì che cosa non vedo un cazzo da quasi opero cazzo sono tutti questo pezzo di merda qui ok è morto ok affanculo c'è stato visto per terra oh merda ma non muore ma non muore merda c'ho veramente un sacco ok fatto fuori ok fatto fuori vieni verso del merda piace fatto fuori dentro il caso di warzone massa davvero sto capito 50 metri col pompa ma almeno faccio fanno una animazione che si fanno male la macchina oh mio dio così a caso cioè pippati proprio oddio oddio merda ma non c'è bisogno perché ciao logone domani faccio comunque live rega eccezionale ma fa gli odori forse domani vai live sì ma solo perché sono stata invitata in una maratona e allora eccezione ovviamente venerdì cambia arma è bello prendi il cecchino eh ma se mi sa di sì nel dmr ma per il meme proviamolo e ci sta no penso che rimarrò su questo teniti teni questo metate sì il pompa occhio ok andiamo qua ah dobbiamo sfondare la porta domani non penso che scusami 3 2 1 vai ok merda è qua invece avuto il pompa perché sono uno spazio chiuso ma è una merda si ma cazzo dice ho visto un pozzo ma dovrebbe nerti eh lo so stimmo domani e stimmo domenica questi pezzi di fango no non bisogna bisogna andare qua oh ma che cazzo mi stava sparare la merda ah dice rifare il giro si rifare il giro vabbè ci penso io oddio oddio spara qua è morta no 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 ok spara sto cos'è che ho lanciato a sto barile dove? dove c'è la porta mamma mia ragazzi mazza male male loro finaccia veramente comunque c'è un po' c'è un po' però nel frattempo c'è quell'acqua di me vediamogli scusa ma non puoi prendere un'altra acqua eh vabbè a questo punto ormai è arrivati veramente è qui la festa oh ma siamo sicuri che non si finisce questo oh no aspetta dove andrà la tastiera ok morto pezzo di merda ciao dove cazzo stanno rotto il pazzo non stai capito ti pusho è tocca pusharli questi pezzi di merda perché non escono fuori oh ma dai sul serio non muoiono comunque in crisi no a parte l'ho preso tante volte in testa non muore ok posso tu far ma dove sono non capisco ma è qua ma vaffanculo ok fatto fatto ma posso tronciarmi in piscina no non ci credo aspetta no no aspetta ma no al trampolino al trampolino ma che senso tutti storti voi non c'era neanche un trofeo impossibile eh infatti non stavate lottando eh beh ci sta ogni tanto vai tre due uno let's go oh oh è il pagino ma che è ma scarface dai veramente scarface ma scarface ma palesamente scarface ma bo ma capo ma dico siamo sicuri che non non sia veramente quasi finito sto gioco perché mi sembra proprio una fine o no eh l'ho punto finale con l'ardini sai che è qua so dmr fa vomitare eh porco 2 ahia eh non lo vedo pezzo di merda questo si però si di troia madonna e dai la prossima volta che rimane solo 30 minuti di finale ah bendo ok che vuol dire di finale hai allora no sì cioè andiamo qua eh allora finiamolo ah lo finiamo direttamente eh e se manca solo mezz'ora no senti no si mi sembra proprio un finale questo questa non è la fine però dicono mi sa che non è la fine ma dicono che manca mezz'ora madonna ah vuole stompare è un po' stompato sì ma mi sembra ancora troppo se non ci sono mini giochi da fare no sta fra è appunto ah è uno mollo non ne pensi non ne pensi la pistola d'oro ma che è occhio merda eeeh vado io che sto più cazzone dai vai tu? vado io vai eh poi effettivamente ha più senso te sai si è quello un po' più primo non è poi lui ti ha fatto più un torce è vero si no gli spari? io gli sparo te lo dico eh appena posso gli sparo se mi dà la scelta gli sparo non ho dubbi grazie molto gli sparo però ok di sto pezzo di merda non mi fido però manco io per questo gli sparerò è un bastardo dai mica ha fatto una sozzata terribile al minimo c'ha una pistola qua dentro eeeh qual è? però col caricatore tolto no non ho quella manina dalla camera no 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 ecco qua ma puttana è va beh l'ho sciotto ma quando l'ha presa ma quando l'ha caricata sta pos- oh dio 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 ti può spostare ti può spostare mi sposto sempre a sinistra quindi tu mira a destra parai a sto pezzo di merda eh ma non c'è come oh shit devi spostarti ancora verso destra verso destra verso ma va 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 devi spostarti ancora verso sinistra tua no verso verso destra del personaggio destra del personaggio qua ok vai spingi spingi questa è sinistra non so dove vai spingi 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 aspetta 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 non l'avevo visto bravo oddio vai ora madonna mamma mia ragazza è morto è impossibile vabbè dai è sparato in testa ma è possibile madonna in faccia io voglio sparare col pad che non so manco buona guarda mica giusto due proiettili si è preso il signore comunque posso dire esagerato esagerato cioè dai manca a fare così manco scarface davvero eccoci qua eh tutti rinporti oh mio Dio via 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 non mi vado a scappare con i motori ti prego ti scongiuro dimmi di se oh mio Dio non ci credo non ci credo è finita invece io sono già morta praticamente sono già morta schiantata in qualche roccia non mi direi che ci fanno guidare sicuro 100% eh mi sa di no no invece è invece sì finita no oh mio Dio oh mio Dio è lancato l'ottorio oddio guarda l'albero subito preso ma c'è molta ma sono morta che cazzo ti fasse guarda un po' moro non ti preoccupare però aspetta oh mio Dio sta ammennata ma appunto oddio ma mi stanno sparando addosso con una vidi vidi puttana ma ti stanno dironeando oddio mi stanno dritando proprio sì 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 oddio ho preso l'albero lo sentivo quel cazzo di albero io ma vero mi stanno incontro di striscio ho preso sette alberi vabbè è perché sto più vicino a loro di te oddio sto per prendere oh mio Dio oh oh madonna che bordello ma dove cazzo stiamo andando in tutto ciò non ne ho idea aia mi sono dilaniato oddio madonna però che stai fatti così eh sì peccato che mo' moro perché mi stanno veramente e mi stanno menando fortissimo guarda là ma sai che sboroni comunque in sto gioco ti è ma che cazzo è ma che cazzo è no vabbè no vabbè non ho parole guarda un po' sagerato ma però bellissimo sì ma io sto direttamente tra le valute ma che è ma come fa sta modo ad andare ma infatti non capisco come sia possibile ma me spavano non mi prendi e ora arrivi anche tu un palude ma so eh no eccoci mio Dio no coda è finita come è finita no 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 non te cagliaro eh mi ha scattato no 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 te prego no 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 porco 2 minchia che è delirio però ma cosa sta succedendo se non è scritto lei è possibile oh me è un passo dal corpo a mano di ogni volta eccoci qua cosa sta succedendo no vabbè raga ma perché non va a merda perché doveri merda sì ma che c'è un pezzo di me cazzo merda è troppo perché si vede nero ok a perché più avvicina e più interiore è sì e sì esatto lanciate ed uguale di quelle che lamenta un certo e totale scolta ma non morano però un merda non corre non corre non corre come non corre non cammina merda merda ma questa è la chiamata questo come ci è avvenuto acqua e ha manata la parte finale del gioco continuate la finita ormai lo finiamo sì sì dai esatto perché sennò la prossima volta ci abbiamo ovviamente un quarto d'ora da giocare 20 minuti di gioco ah scusami vabbè il finale sarà tutto ah rica non ho capito però manca mezz'ora o manca un'ora c'è c'è lady che sta dicendo che arriviamo a mezzanotte se giochiamo no non penso ora non so un'ora di gioco per il finale è follia manco manco un tripla e qui inizia la seconda fase non manca poco dicono e allora fermiamoci qua ci manca ancora un'ora qui sta caricato probabilmente è l'ultima parte del gioco risveglia lenti ah rica non so cosa pensare grazie gianni intanto vediamo dove finisce nel senso dove dov'è che ci dà il salvataggio ma lì è stato sparato almeno sette volte ma non ha un buco appunto comunque mi stanno mettendo una curiosità per il finale incredibile basta di chat dicono di prendere il tempo per un'altra live perché il finale è bello ah quindi tu dici proprio scrivere finale a way out ma intanto vabbè qua non possiamo pisciarlo ora perché no ora no ah così? no ah così? ricarcerati? ricarcerati dobbiamo rivedere dobbiamo rivedere rivedere ah dobbiamo rivedere in segreto eh ma non penso che ci fanno rivedere ma questi ci mettono una cella di sicurezza ma perché ci accettano in un buco di culo un isolamento ci mettono vabbè non ce l'abbiamo fatta abbiamo ucciso Harvey ma sì no è stata lei madonna che pezza di merda che figlia di puttana che brutta stronza balorda vabbè comunque è incredibile tutte le ragazze ci hanno ci hanno tradito ma ci mettono in un buco di culo ma lui che ha fatto? ma cazzo che vuole questo? ma che fa? ma che fa? ma si è incolato si è incolato buon lavoro Vincent mi sono scoperto Leo guarda ti giuro su cristo ti stavo per dire comunque lui c'ha proprio la faccia da poliziotto non ci posso credere non ci posso credere con un poliziotto ce l'ho spiegone mi sa non ho parole non ci credo e lui e tu eri qua non ci voglio credere stavi spiando no ma va a vedere che era tipo una persona un infiltrato quello si mi sa che era un infiltrato che hanno ammazzato totale guarda Enrico grazie mille comunque veramente è luce quello contali quello si era un infiltrato era una talpa minchia hanno floppato male se lo sono fatti ammazzare lui troppo faccia da da poliziotto comunque è vero ecco perché non ha mai detto perché stava in prigione brutto eh quando ti ammazzano un infiltrato così e ecco perché l'hanno acchiappato ma non si ricorda ah non si ricorda perché era svenuto c'era pure lui no vabbè eh bella merda bella merda stay with me please to stay with me c'è un buon testa che cazzo è sta oh no ma mi sa che era il fratello è il fratello senza me sa era il fratello no non ci sto credendo guarda io su che cazzo a parte l'atto illegale scusa è ora ecco perché ci hanno lasciato usci così ma che cazzo dici è il fratello è il fratello che cazzo di plot comunque questo gioco è veramente io non mi ricordo se ha vinto qualcosa ma ti dirò un arresto sta arrestando e ora vince madonna vince no borello no no calma 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 allora ti faccio saltare cervella non avvicinare pezzi di merda fiume infame calma calma fiume infame i pezzi di merda luridi calma ma secondo me lui alla fine si è affezionato e lo lascia calma gli lascia fare le cose calma purello comunque mega tradizio calma calma oddio sarò ammazzato qua eh ti dico cosa ammazzano non posso fare due cose insieme così calma non conviene finire qua conviene ma non so se ha salvato ha salvato che ha salvato in teoria oddio ma qua che cazzo se c'era c'eravamo arrivati però no c'eravamo arrivati io ti tengo d'occhio io ti tengo d'occhio comunque io intanto guardo serini ho bevuto però quindi se hai perso qualcosa oh mio dio ma è capitato ma che cazzo ma scusa ma questo vedo è di amianto ah ma siamo sott'acqua merda eh sì merda qui siamo uno di uno ma io non so tutta sta storia sarà basata sarà basata sul no dio merda merda che stai facendo ma non è vero non è fatto partire ma che troiata ma scusami ma ti ho buttato sotto eh sì eh sì perché siamo uno di uno ci dobbiamo ammazzare ma davvero così io penso che alla fine cioè dai come resistenza dimmi che ti devo sparare ti prego come di scappare cosa che hai mangiato è liquirizia a liquirizia è che cosa ti mette per cui dove il capo 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 ma che cazzo ma che cazzo ma ora muoio dai fanculo ah beh ragazzi è un po' forte è giusto giusto sono due cose esplosive e le cose che ci può stare i dialoghi fra personaggi codo ferma non fare cazzate per compro tutto più l'anno da ma che merda che stanno a sparare però dai capo la nella attrezzo più comune che si può entrare penso e ride niente 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 per culato a viso lo devi usare non solo comprare è quello il problema il tappeto pirulante è bello ma il tappeto non lo usa nessuno ma perché non è vero ragazzi ma sdoganiamo sta stronzata ma non è vero ok è falsato è falsato è falsato non fai niente stupido non fai niente nervi che è tutta pirula è finita non voglio ti scusare Emily si scusate sai che non posso farlo non fai niente questo è tra me e Vincent ora salta 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 oh però lui non è sto dice non ti voglio fare del male la traffa in culo ma Mario Sturniolo perché così è arrabbiato oddio penso che ha tutte le motivazioni per essere arrabbiato ma davvero Redham ma Dio no si uno di uno mi dura la pena che infame mamma mia eccoci qua ok che brutta mano sei affatto di sfondo no 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 vabbè passo al mouse e tastiera ho capito eh vabbè vabbè prefire no prefire un cazzo ma dove cazzo stai tu ma di cazzo cosa bisogna fare bisogna spararsi e basta dobbiamo un obiettivo no no bisogna spararsi vedi c'è la salute there you are you little shit where are you at Leo let's fire esci la madonna ho tolato oh ma che c'è oh ma c'è sta niente qua non so riparare su nulla scusami no ragazzi c'è tutto questo per un tapiru lan oh mio dio ci stiamo ammazzando per un tapiru lan lo vendo lo vendo lo vendo giuro che lo vendo se ti da così fastidio lo vendo ti immagini oh ma questa è una cosa bellissima comunque aiaia di gole calma calma cazzo non c'ho più gole tra la frutta no oddio dai comunque sei in pezzo cioè mi dovresti lasciandare scusa ma sei un criminale ma che criminale che schifo sbirro mamma mia mazza ha preso male comunque ha preso malissimo lui buonasera vale buonasera eccoci vabbè anche lui vabbè ma tu un culo lui comunque mica tanto normale di nuovo ma che luketown ma dove sei oh il cazzo d'arrizzo ucchio madonna oh mi hai preso proprio alla sprovvista zio vera calma 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 fate un coglione ma perdonami eccoci no ma con le mani mamma mia con le mani no con le mani che cosa si diceva fanno sesso ora il culo aprile ancora per il culo a 100 fai solverta pirula no eccoci io invece faccio la presi guarda scena perché dover stare fermo anche mi dà un cazzo ciao vale grazie ci ho fatto ricordare quando è nato mio figlio c'è una sveglia così grossa che mi hai stabilito di pensieri praticamente no si è fuocata è finito ciao d'ora grazie mille ma perché ho fatto ricordare quando è scopato con tua moglie gg e niente oh mio dio sto montaggio ti ho mandato indietro nel tempo ma tu sei 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 al bar sei con la salute io abbastanza sì sto a giocare a scopaghi i vecchi questo ti ho mandato quando tua moglie ancora l'amava guarda esatto mamma mia madonna mia che finale è incredibile la madonna questo muore il calcio quando tuo figlio ti schifava un pochino non pensavo che si potesse morire sparandosi l'altro l'altra non abbiamo più ma la soluta che serve a sto punto non è perché io sono venuta incontro c'è così spapalda e beh sei un 1v1 non pensavo che fosse così importante oh no oh no minchia ma che è la costa della vita per prendere sì comunque mi sembra assurdo no dai ma sei più vicino ma com'è possibile nooo 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 ma devo sparare non posso non sparare e non lo so prendi per culo appunto l'idea comunque ti posso dire che è finale del merda no dai c'è anche tutto l'anno passato poi c'è diventato provvisamente nemici dai non mi piace sto finale vabbè ma se c'è stato il colpo di scena dai ci sta addirittura che spara dai lui dice che doveva finire tra luce e vino no tra luce e vino no però c'è boh addirittura che spara poliziotto infame comunque tifoso proprio però a questo punto io penso che sia dalla mia parte che dalla tua se no piango non ti do un cazzo lasciami morire qua bastardo non gli aduomo nei spirri non so amica di dai ma posso dire che è un po' paraculo questa stronzata è una paraculata ma sta morendo grazie al cazzo mi dai la mano del cosa per morire vicino a qualcuno questa è una paraculata però bello dai no è morto ma lo sturniolo comunque non ce la farei mai a prendere per un gioco l'unica volta che ho pronto per un gioco penso sia stato per della soffa sparte 2 probabilmente sì lui ha un sacco di indie game invece recentemente ne ha portati indie game? hai pianto per indie game? bellissime bellissime quale? quali? planet of lana e com'era quell'altro? grey come è la signora? gris mamma mia vabbè il senso che Vincent tepolisse comunque perché poi di quanto gli dava a lei una lettera da portare alla moglie ma davvero mo questa gli apri vabbè un amico gli deve sbrancare ma oddio allora gli dice amica mia tuo marito è no ma lui è vero che vada per un figlio c'è capisci eh dove è il mio marito? adesso si scopla la sua moglie no vabbè eccoci ma era meglio che moriva questo? certo io non aveva mai visto però solo deve crescere tranne se sua moglie come minimo lo piscia la moglie allora la moglie ma poi ma si è fatto per il la barfetta la poliziatta di merda diventa massimo rispetto per le forze dell'ordine mio zio e mio cugino e mia cugina sono poliziotti eccoci adesso forse va bene al cuore va bene all'anima però dai questa è una merdata dai certo che c'è un'altra finale stai c'è il finale se noi effettivamente vinciamo quindi uccidiamo Vincent no uccidiamo l'io io non ho ancora capito come si chiamo io dai una sberla eccoci ma non gli avranno detto che l'ha ucciso lui allora lui pezzo di merda c'è da dire però che il nasone veramente è un fomentino cioè nel senso ormai ti ha cioccato ti ha preso ba arrenditi scazzottata cioè addirittura a farti arrivare a sparare mi sembra un po' esagerato sì effettivamente sì però che storia sì è storia della madonna è figo figo posso dire che il finale è forse un po' troppo speedrannato sì cioè va bene che abbiamo abbiamo staccato l'altra volta così un po' a metà però boh tutto il fight finale un po' no secondo me è tutto un po' speedrannato po' perché puttana che culo la moglie dai mulì ma direttamente c'è la moglie che sta piangendo per il marito mamma eccoci qua mamma bravo mo sento del pezzo da merda dai cazzo un ovino basket dai brutta fine secondo me la potevano se la potevano giocare un po' a me certo vabbè sarebbe stato tipo un un come si dice un fanservice non da poco però occhio però eh devi andare a trovare il cimitero che è che fa che svolta fa che ci sia ah ma dalla moglie non mi dirai che la moglie lo piscia madonna ti prego godo ti prego godo dai godo senza moglie e senza figlio deve rimanere il bambino crescerà con la sede di vendetta e diventare il goblin it bello mamma mia il bambino è un cesso mamma mia il bambino è un cesso ma mamma mia il bambino è un cibo ammazza quello è si leva dalla dal cazzo lo piscia l'ho chiamata Julie come l'ho chiamata Julie Ma scusami Ma è anche mia figlia Troia E ha anche i due occhi E non ha niente di me Come mai Giulie Eccoci Giulie E quindi? Si va a letto? No lo piscia Ha letto a casa sua però Olè Olè E raffinazione Tutti felici e contenti Io ho capito Ci sta Allora? Quasi scopa? Boh Non lo so Non lo so Finisce così Non ci credo No Occhio Vabbè cimitero Vabbè che paraculato Fammi direi che vado io al cimitero Sicuro? Ah no la moglie Si lui ha dovuto Troppo speedrannato Il finale Però dai Ma non si è sentito Per niente Tutto il rapporto Che avevano instaurato Loro due Eh si Vero E' andato completamente Come se non ci fosse mai stato nulla Ok Che lui è un poliziotto Ok Che lui è matto Però boh E' stato un po' Il bambino mi grigia Dai cazzo Dai il bambino mi grigia Ma che è? Eh sembra Lord Farqua Adrishrek Mi grigia Mi grigia Mi grigia Mi grigia È proprio storto Urello È tutto storto Tu sai perché vedi come è tipo tozzo no? Sì è strano Ci sembra un adulto Nel corpo di un bambino Non lo so Ciao Simon Che triste però Questa è una svirinata Questa è una svirinata Tristissimo però sto finale eh Riste sì ma adesso sono curioso dell'altro però Mi sono recuperato il Little Nightmare 1 Con dirsi che capolavoro Ma bellissimi Adoro anche capolavoro Il secondo che sembrano Sono pronto per il pack I know you're disappointed But Harvey killed my brother I had no choice I can't fucking believe this I'll talk to the captain Qui c'è una piccola C'è qua esatto qua C'è troppo di stacco Sulla cosa che hanno passato E la rabbia Sai cos'è secondo me? Non è Boh è un po' squilibrato Nel senso lui Nasone Impazzisce completamente Va bene il fatto che l'ha tradito L'ha preso per il culo Quello cazzo di pare Ma Cioè letteralmente è impazzito Non ragiona più Non ha veramente senso Anche perché lui Il poliziotto In realtà Gli dice Ti faccio ridurre la pena E tuo figlio Cioè cerca di farlo ragionare un po' Cioè capisco il fatto che Cioè che sta sul cazzo Ok Avviciniamoci però Che fai? Non ha sito Da quello Che fai? Da qua Ma andiamo a nascita No Ma basta che mamma Sì Un po' di testa Ci sta che impazzisce Definitivamente si scopre Di avere un po' Il titolo ha fregato Ok Però capisci bene Che letteralmente Si stanno prendendo a mitragliate Eh capite Troppo C'è la madonna Ora capisco che è un gioco Quello che vuoi Ma se mi fai un'evasione Facciamo questa E poi ci stiamo prendendo Altrimenta Ammitragliate Cioè esagerate La video C'è Un attimo C'è Cazzo è Rambo Capisco l'incazzatura Manca a far così C'è un po' di maccio Poi per carità Che ci può stare Ci può stare Dove adesso stai? Sono Sono È un finale Da Fast and Furious Giusto per ricordarti Gli hanno fatto Il lavaggio del cervello In che senso? No ma io sono assolutamente D'accordo con lui C'è È veramente Stato una merda E ci sta che sia così Incazzato Però c'è Un limite per tutto Possete che magari Il finale con Di Vincent Magari è migliore Vediamo Anche qua Poi mettiti in ginocchio E poi si fa Perculare Ah boh Non so No caritatevole No però Cioè Non è Secondo me Non è Non è un atteggiamento Giusto per una coppia Di persone Che sono state Insieme tutto sto tempo Che hanno passato Delle cose Insomma Boh Proprio perché uno Conosce anche il figlio Dell'altro A sto punto Non lo so Boh È un po' Esagerato Quando cazzo stai Ma sei tra di me? Fuscio Stai capirola Scusami Addirittura Ah questo mi è A fare l'acquado Cioè quindi È praticamente È uguale È identico No? Ok è identico Però Il fatto del Del finale Ah si bravi Avete fatto la presentazione Bravissimi Il fatto del finale È Perché tu vai più veloce È perché più vita Esatto Ecco perché serve la vita Esatto Esattamente Pure secondo me Eh no è per favore Ma Ma il pugno Lo dà da solo? No È il primo Che dà Ma sa Ah ok Perché Perché vedi Perché ho perso In virgolette Lo scontro Sì esatto Cioè in base a chi È in vantaggio Sì 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 Ok ok Hai detto La spiegazione La voglia del cervello Ma per la voglia del cervello Sì l'ho letta Ma Cosa significa? Cioè la voglia del cervello Che cazzo gli hanno fatto? Cioè Che L'hanno drogato Che hanno fatto? Vabbè Vi ha fatta Vi ha fatta Suzza Proprio Secondo me è brutta Cioè Più o meno Cioè Nei suoi panni Anch'io c'era Rimasta De merda Decisamente De merda Non so Anche l'ho letta È che Non riesco a capire Il lavaggio del cervello Cioè il lavaggio del cervello Come fai a fare il lavaggio del cervello? Non so In realtà è il soldato all'inverno Guarda La ginocchiata che non penso Come tu possa rimanere vivo Dopo la ginocchia del genere Vabbè Cioè Prende la testa Con due mani Gli ha dato la temica E' chiaramente morto Su sonno glielo dà Però vabbè Facciamola Facciamola Andiamola per buona C'è da dire Che una persona Che intraprende Una carriera da criminale Non è che possa sperare Al meglio E già di base E lì sei un egoista del cazzo Perché Non te ne frega un cazzo Di tua moglie Di tuo figlio Se fai una carriera Se intraprendi una roba del genere Quindi Ci stanno sempre i ma Eh Però Cioè anche il però Scusa Quindi è impossibile Vincere per me È impossibile vincere In questo caso Non lo so Perché se tu stai ferma Mezz'ora Io non riuscirò mai Eh no No è impossibile Sì Dove essere bionico Dove essere Stavate a pia per culo Se il velo pulento Tacci vostra Giusto È perché Il capitolano È perché Chi c'ha la Come si dice La vita più Oh mira Però di tenere premuto Ah ok Sono due simile Il dialogo bloccato In che senso Va Non mi vedi Non puoi scegliere Io se muovo il mouse Non mi fa scegliere Non puoi fare nulla Non puoi fare nulla Non puoi fare per forza Posso solo sparare C'è capito A sparasse Dai Mi sembra esagerato Però posso dire Che 3-2 Mi sa più simpatico Comunque il polizotto Sì Come personaggio Esteticamente anche A me non mi stanno simpatici Sono empatizzato di più Con il mio Ma non perché Il mio Ma perché Ah è vero Si è bloccato il dialogo Ma tu sotto L'avevi bloccato Come ti senti ora Eh Puoi dire bloccato Sotto Io ho i sottotitoli Come ti senti ora È Bloccato No Ma quindi ora non parla Non si legge Dio Aspetta Però c'è la pagliacciatella Ma no È evidentemente identico Però poi cambierà Gli dà la lettera Ok Non è identico Questa lettera Che dà la moglie Nel finale è buono Ma lo dà Lo dà Alla moglie Perché adesso muore Giustamente Vedi c'è lui Neanche gli tende la mano Lui è proprio Incazzato Come una biscia No Secondo me Mi ha dato la mano Sai Andiamo No Perché ascolta Lui fa il gesto Di prendere la lettera Ma fosse stato per lui Secondo me Non l'avrebbe data la mano Cioè Si avvicina solo perché Lui che tende la mano Per dargli la lettera Se no Non si sarebbe avvicinato Si è troppo incazzato No Comunque Che merda Regà Non mi piace Stornare Bu Non lo so Un po' too much Che m'ha stonato Stiamo purello Buonasera Regà Buonasera A sto punto Era meglio Non spalarsi Se è così gentile Da dargli la lettera Alla moglie Guarda In realtà Queste cose Sono le solite Paraculate americane No Prima di morire Dagli la lettera Noi siamo puttanate Però vabbè Boh Vicenza lo so Gli ho dato uno scontro Amazon Per il tapirulata Oh mio Oddio Oddio mio Genio Rinato Con la barba Sta molto meglio Quella barba Ma che è Quella Mazzola Fio di puttana Un'altra persona Non esageriamo C'è nel senso Ma Allora Se gli suona Lo arrestano C'è nel senso Gli adorrebbe lasciare Che la mette sotto Sì Vabbè Per forza Bravo Così Vola il vento Vola il vento Ora faccio una live Faccio una live Dove corro Sul tapirulano A pizza Una live Dove nella intro C'è il tapirulano E io cammino Tu ridi Ma io quando eravo In quarantena Facevo le live Dove mi allenavo Facevo la ciclette Mettevo il green screen Con Delle hit Mazzesche Il green screen Con il parco Ora mi Ora mi Perdoni C'è la ciclette Sì Che può andare Per prendere la bicicletta E te la può andare A fare in culo Città Ma scusami Ma era la quarantena Non si poteva uscire Grazie al cazzo Potevi uscire Per fare Giochi Sì Per portare al passo Il cane fantasma Cioè A lei se è giusta Non piacciono Invece Invece Vabbè Ma è normale Dai Se me lo permetti Sai niente Eh niente Non ce l'ho fatto Oddio questa è più triste Però un po' Oddio No non lo so Qual è più triste Però sta letterina Sta letterina È un po' pesantuccia Effettivamente Forse questo sì Mamma mia Ragazzi Beh Vale Vale Fai Riscrive Sì Ma mu Basta Questo gioco Basta Chiudiamo Faccio Un altro run Di way out Decisamente Facciamo sì Maratona Sono gli altri Non c'è l'altro Eh guarda questo Non vive No 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 Non è divertente il finale Sto leggendo in chat No Eh sì Perché giustamente Ci sono i funerali Per lui Ci sta E quello L'hanno seppellito Dove L'hanno buttato Da un caccioculo Su la fossa Gli hanno messo Una palla Di piombo L'hanno buttato Sul tevere Oh mio dio Così Indisturbato Lui se ne va In Messico Eh vabbè Sto bambino Sembrano i bambini De The Sims Tutti storti Bello Uguale Quello l'hanno buttato Un cazzone L'hanno spezzato Questo è decisamente Più Allora Questo è più triste E probabilmente Anche più In giusto In teoria In giusto Beh sì Cioè nel senso In teoria Il bene E il male Cioè il criminale E il male Lui è il bene Cioè nel senso Lui lavora per la legge Alla fine Lui che È il natone Che Eccoci qua La manina Bello Adesso I saluto Cazzo Andate L'amore L'amore vince Non è proprio questa La morale Insomma Tomma La morale Della favola È mors tua Vita mea Penso In questo In questo Gioco Non c'è L'amicizia che tenga Di prima Che finale Paraculo Buono ma soddisfatto Sì Ne ha nessuno Dei due Però forse Se devo scegliere Come Quale finale Migliore Forse È quello Di prima Lui ci vuole Di prima Sì Boh a me Mi ha commento Di più Porco diaz Mi ha commento Di più questo Se non mi piace Più questo Sì perché Non so Questo di qua È un finale Volendo a sorpresa Cioè Lasciando stare Che A me quando i finali Sono tristi Cioè Quando vince il male Sul bene A me piacciono Tipo Infinity War Minchia Io sono rimasto Shockato in sala Per esempio Anche se poi Effettivamente Poi ovviamente Con Endgame Sono solo avvisuti tutti Ma quando Vabbè non faccio spoiler Ma tanto in teoria Lo fanno tutti Ma poi Endgame Ovviamente Però Sì Diciamo che Il finale più giusto Forse era Era il poliziotto Che ammazzava lui Però secondo me Sì però Dipende anche che finale Fai bene sul male Capito Cioè Secondo me Non hanno senso Nessuno dei due Dovevano giocarsi Era un modo diverso Però se proprio Devo scegliere Se vai a ragionare Effettivamente Cazzo è lui Che si è scelto Sta carriera di merda È normale Che poi alla fine Finisci ammazzato Cioè È normale Ed è giusto Tra virgolette Che È più probabile Che muore Quello che Ha intrapreso Una carriera Criminale Mentre il poliziotto Poi raccio Quello sta a fare Il lavoro suo Ed è dovuto morire Per sto coglione Capito Cioè Se lo vogliamo Guardare da un altro Punto di vista Ci posso stare Ci posso stare Però Mi aspettavo meglio Sinceramente Sì comunque In ogni caso Mi aspettavo meglio Cioè se tu mi fai La cura dei dettagli Cioè loro mi fanno La cura dei dettagli Del io che posso Fare il coglione Sulla sedia a rotelle Facendo Eh capito Cioè Io che posso Gere a forza 4 Ti fanno praticamente Come si dice Socializzare con l'altro Quindi passi dei bui momenti Poi che succede Succede letteralmente Che in 2 millisecondi Ti fanno fare 1v1 Con le mitragliette Sì Cioè Capisci bene Che è un po' strano Troppo Sì troppo Secondo me Ok il finale Ma dovevano un attimo Spalmarlo meglio Cioè per me È come se Per dire ragazzi Dobbiamo stringere Quindi Il colpolizionare è figo Il colpolizionare è finissima È fatto bene Sì Il colpolizionare sull'aereo A voglia È figo Quello è molto figo Da lì in poi Comincia ad andare incalando Secondo me È proprio il finale Secondo me Il finale Cioè l'incipit del finale È figo Però è stato fatto Secondo me Un po' troppo Spicando Lo sono giocati Un po' frettoloso Sì Però bello Cioè nel complesso Veramente molto bello Cioè vai a trovare Un gioco del genere Ora da giocare co-op Follia Cioè ora con trovare Un altro gioco Co-op così Da portare ogni giovedì Sarà dura Di questo livello La vedo molto difficile Sinceramente Dobbiamo aspettare Little Nightmare 3 Praticamente Ma quando esce? Maggio Non c'è scritto Dicevano maggio Possibile Ah giusto Codo Dai cambiamo gioco Che il ragazzo Lo va Il ragazzo Di poco fa Lo va Altro Quindi cambiamo gioco Subito Chi No no C'era il ragazzo Poco fa Che ha detto Dai dai basta Basta Ah già Si si no Corri No Disinstall Eh Presto Presto Eh